eri go action da vostro morissan sono nel mio nuovo studio ragazzi scusate abbiamo avuto dei problemi tecnici perché dall'alto magari qualcosa non funzionava ma oggi sarà una live fantastica seguitela fino alla fine perché ci saranno delle rivelazioni uniche con questo oggi abbiamo un ospite d'onore un fratello stefano edoardo erario ex gran maestro e sovrano del trentatresimo grado del rito scozzese antico ed accettato e niente quindi abbiamo questa fortuna ragazzi anche di fare delle domande magari nella parte finale della live vediamo quanto durerà e condividete questa live con tutti quanti perché più persone possono avere questo tipo di informazioni magari più persone possono essere leggermente illuminate ma io volevo invitare in studio il fratello stefano edoardo erario quindi così lo portiamo su banda le ciance non c'è le bande ce le abbiamo subito in studio 119 persone io dire fantastico allora stefano ad to stream ciao stefano come stai buonasera buonasera salome a tutti buonasera ciao moris ciao carissimo innanzitutto vedo questa questa clamide come mai questa presentazione con la clamide questo vestito allora sì in effetti è la prima volta che lo faccio con te e perché ritengo che sia una diretta importantissima dal mio punto di vista e siccome parlerò di alcuni argomenti molto particolari e sensibili ho preferito non vestire le mie i miei abiti civili ma solennemente potete mettere quelli che io utilizzo in realtà ho utilizzato nella massoneria la clamide non è un una vestigia di grado una sotto vestigia che si indossa nel rito scostese antico accettato dal quarto grado in poi ok fino al 33 quelle che vedete voi in giro in giacca e gravatta sono quelle cerimoniali e dunque noi in loggia però abbiamo l'obbligo il dovere di vestire la eh la clamide quindi non ho sicuramente gradi e questioni da portare però ho ritenuto opportuno che insomma ci fosse questa solennità riguardo alla serietà e l'importanza dell'argomento e poi insomma qualche premessa la faremo allora in tanti mi hanno richiesto di fare questa live Stefano tu sei molto seguito da una piattaforma numero 6.org è una grandissima cultura abbiamo fatto già delle live toccando argomenti unici nel suo genere eh desidero ricordare che noi numero 6.org abbiamo fatto conoscere attraverso te quella che è la massoneria tu mi hai insegnato a scindere i consortari dai massoni ci tengo a ribadire pubblicamente come ho detto altre volte che Stefano da quando lo conosco ha sempre dato consigli utili all'umanità ma anzi mi ha sempre sgridato quando io li chiamavo inferiori o cose varie mi ha detto no non vanno chiamati in quel modo sono degli esseri soltanto leggermente non pensanti e lui li ha chiamati però voglio dire no perché dico questo eh perché anch'io ho fatto un amico morris massone cose varie io non sono nella massoneria però mi ha affascinato far conoscere questo mondo però lui mi ha insegnato la differenza tra quelli che voi vedete che magari impropriamente usano i simboli massoneria ma non sono massoni ma sono consortari che la maggior parte sono politici chiamiamoli cattivi però da parte dei massoni che conosco ma Stefano in primis sono sempre quelli che hanno dato consigli utili per salvare l'umanità e questo devo dirlo pubblicamente beh grazie 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 della della stima insomma c'è chi mi vorrebbe morto figura lo stesso ascolta Stefano oggi in questa diretta faremo delle importantissime rivelazioni ma prima pareci del tuo progetto partito se non ero male nel duemila e quindici di cosa si tratta? allora il progetto in realtà oggi si chiama progetto Kabbalah Yahshua Yahshua detto in questo modo non si riferisce diciamolo subito allo Gesù della Chiesa Gesù della Chiesa Cattolica insomma della Chiesa Cattolica si riferisce ad un termine che poi rimando a voi insomma alla ricerca perché altrimenti se stiamo qui già a spiegare l'ermeticità del nome ci mettiamo già tutta la giornata quindi lo rimandiamo ma il progetto in sé sarà presentato in un nuovo ciclo di convegni è già partito come tu ben sai il 26 marzo del 2023 a Torino abbiamo fatto la prima diciamo in assoluto e abbiamo avuto un successo non diciamo non scarso abbiamo avuto più di 60 presenze molto interessate è piaciuto tanto e colgo l'occasione anche per scusarmi con qualcuno perché soltanto l'introduzione al progetto ci abbiamo messo due ore e venti minuti solo l'introduzione quindi anche per loro stasera cercheremo di andare più spediti per completare quello che era poi la visualizzazione delle simbologie che erano a sostegno della nostra del nostro progetto ecco molto molto interessante questa cosa scusa che stavo concentrato anche a mettere i saluti delle persone ci sono tante persone che soltano sia me che te lo sai c'è anche tu hai tanti fan sul morosei.org ma come si può invitarti e chi lo può fare? scusami volevo aggiungere che questo progetto che non si chiamava in questo modo ma si chiamava in un modo differente all'epoca lo presentai a Lucca nel 2015 ecco dove ebbe anche una spiacevole questione che fu oggetto di una scorta dei carabinieri verso l'autostrada cioè mi scortarono ecco però chiusa quella parentesi credo spero anche che ci siano proprio alcuni di quell'epoca insomma che ricordino almeno questo ha valore di cosa sul fatto che questi studi i miei studi sono che partono dal 2001-2002 e vanno avanti fino al 2015 quando presento un buon diciamo quantitativo di simbologia perché tu sai che io mi occupo di simbolismo e quindi ho presentato questo progetto in quella versione questa è una versione più completa rivelatrice nel senso che non mi sono questa volta non mi sono per così dire così limitato ecco vorrei andare oltre però ti dico che anche questa sera non potendo evidentemente poter far vedere tutto rimando proprio alle conferenze la spiegazione più diciamo completa quindi un progetto di divulgazione in sintesi il progetto se vuoi te lo spiego mi dicevi come può essere prenotato ecco niente le conferenze può essere prenotate tramite la mail alla mia persona quindi nessuna mediazione io non cioè la mail indica poi l'organizzazione con chi si fa promotore e quindi nulla di impegnativo insomma ecco certo ma è dei compensi in denaro per queste conferenze no io non io non prendo compensi come non li ho mai presi neanche nel 2015 neanche nel 2001 chiaramente per motivi di logistica non conoscendo i luoghi perché negli anni scorsi li ho fatte persino nelle località di montagna dove non avevo idea di come ci si arrivasse quindi chiedo soltanto l'ospitata come si dice l'albergo e il ristorante insieme perché anche a torino eravamo quasi in 40 a mangiare poi tutti insieme quindi abbiamo continuato anche lì a chiacchierare fino all'una di notte ringrazio ecco ma di cosa organizzatori eh il primis certo ma di cosa tratta in sostanza questo progetto di cosa cosa tratta è un progetto massonico perché ora si chiede a mio dio cosa cosa c'è dietro no no non è un progetto che ha a che fare con la massoneria è un progetto di risveglio spirituale quindi molto generico dal punto di vista del suo titolo ecco però che passa da una profonda conoscenza esoterica e pratica quindi un diciamo diversi step che implicano questo tipo di conoscenza e poi finisce ad una termina così in una consapevolezza di se stessi alla fine no quello è lo scopo anche di questi piccoli corsi insomma diciamo insomma è una consapevolezza che chiaramente deve avere anche un contesto per così dire universale quello che poi chiameremo divino poi quando lo affronteremo attraverso questa disciplina non si avrà più bisogno di mediatorio di mediazioni come dice il titolo della serata tu sei il tempio dio è dentro di te e fuori di te ecco ho citato subito tommaso l'abbiamo bruciato perché quel dentro di te adesso vedremo più più in là che è già di per sé una polemica che è sempre stata al baglio dei insomma degli accademici ecco dei teologi anche quindi infatti questa di stasera perdoni se ti interrompo stefano è una bella live posteremo un sacco di fotografie stefano spiegherà esattamente il loro significato quindi vi consiglio di guardarla fino alla fine di condividerla e magari di salvarla anche non si sa mai per la censura ma penso che nessuno ci rompa le scatole e qualcuno lo abbiamo anche avvisato però dai non dovresti ascoltatela tutta guardatela tutta perché proprio alla fine ci sarà il botto come si fa di solito con tutto come tutte le feste insomma quindi io vi tratterrò fino alla fine come si conviene in una trasmissione in realtà quindi i trucchi televisivi li conosciamo però man mano delle rivelazioni che anche tu finalmente vedrai da un punto di vista non semplicemente figurativo d'immagine ma dietro a quelle immagini ci sono studi per ogni vignetta che verrà proiettata quindi per ogni immagine che vedremo sullo schermo quindi credo che sia davvero importante anche definire alcuni concetti e ti dirò subito ce la spoileriamo come si dice nei termini moderni che tutti sento dire che Ginkerry ha rivelato Ginkerry ha rivelato Ginkerry ha rivelato qualcosa che noi conoscevamo già da un bel po' di anni l'avete capito ma lo ha rivelato anche male ecco se c'è Ginkerry che ci ascolta lo abbracciamo lo salutiamo lo stimiamo come attore però dalla CIA si doveva far dare delle indicazioni più precise perché se vuole segua questa trasmissione perché gliele darò io ma guarda io direi banda le banda le cianci e cianci alle bande di incominciare questa live meravigliosa e di incominciare la prima vignetta e io ti citerò qualcuno di importante ecco tu puoi mandare la prima vignetta già la prima all'occhio no questa è una importante insomma è una immagine di fondo non ha nulla a che spiegare è un po' la dannazione di ogni uomo le sue domande quelle che 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 l'agnosi poi no ci ha ci ha consegnato insomma l'umanità da dove veniamo chi siamo e quant'altro ecco io citerei subito però un un grandissimo ehm personaggio che tutti si accorgeranno dalle prime dai primi versi di chi sto parlando quindi lui diceva verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente contemplerà chi è veramente e chi ha creduto a chi ha ceduto le retini ha una mente fallace menzoniera che lo rende e lo tiene schiavo la seconda citazione forse quella che tutti conoscono è se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo non servirà all'uomo per comprendere se stesso finirà per girarsi contro questo era giordano bruno cioè due citazioni effettivamente che ci fanno partire direttamente nella nostra puntata perché ci mettono anche in guardia della scienza che oltre che rivelatrice può essere anche dannosa per l'umanità mi verrebbe già la prima domanda di giordano bruno se era uno star seed se era un alieno se era un illuminato come come spiegazione uno dei pochissimi e veri illuminati del mondo illuminati buoni quando si dice illuminati si deve pensare sempre buoni gli altri sono fulminati bisogna vedere come si utilizza l'elettricità allora io voglio fare questo punto puoi anche togliere l'immagine perché non deve ecco magari impegnare troppo nello studio perché altrimenti ma io volevo fare comunque delle raccomandazioni quella di stasera insomma deve essere l'argomento deve essere veramente preso sul seno perché sicuramente ci saranno le solite i soliti insulti le solite preghiere che io vedo sotto ogni ogni video che faccio allora a costoro per cortesia pregiudizi se volete ascoltarla se volete guardarla la guardate e poi magari purtroppo questi sono i social e questo è quanto però io mi raccomando sempre ad avere una mente aperta ecco perché laddove non vi sia una conoscenza esoterica ecco da parte di alcuni perché altri ce l'hanno ecco si infiltra ogni tipo possibile di moralismo quello peggiore poi senz'altro è quell'inquisitorio religioso che conosciamo tutti ecco chi mi chi mi condanna chi mi dannerà chi mi manderà al rogo chi dice che scende dio e mi darà le botte insomma io da quando faccio conferenze non ho visto nessuno come voi da duemila anni quindi io prego coloro che si sentono così mortificati di mortificarsi in un angolo e fare quello che loro ritengono ecco questa diretta quindi la sconsiglio ai minori di 16 anni se assistiti comunque anche loro da adulti ok quindi è una importante come vedi anche perché ad un certo punto avremo delle immagini che valuteremo io e te se mandarle perché possono essere anche passibili di censura eh non lo so ok alcune immagini lo valutiamo io e te magari in privato la vedi e poi ecco perché va bene va bene ok perfetto no è quasi ridicolo dirlo però è così la censura c'è molti pezzano su youtube può dire quello che vuoi non è così non è così vieni proprio censurato per Nicola certo no evidentemente non è assolutamente così ok quindi possiamo mandare già la prima se vuoi sì se ma devi postarla sì eccola qua questo sarebbe il titolo la puoi postare e a me non appare devi presentarla perché come ho fatto prima perché altrimenti non la vedo non posso postarla sta caricando perfetto 326 persone look ed quante persone curiose che della conoscenza eccola qua l'ultima volta abbiamo fatto 15.000 visualizzazioni sono poi verrà rivista più tardi cosa è questa è la live capito sì sicuro allora eh questo è il titolo rivelazioni dio è in tutti voi come vedete non metto non scrivo dio per intero chiariamolo subito perché non voglio che si intendano il dio di qualcuno eh lo mettiamo in questo modo sono due lettere che noi possiamo chiamare dio ma che ognuno immagine suo io eh ho preferito scriverlo in questa maniera sì ecco quindi il dio è in ognuno di voi e in tutti voi avete preferito scrivere voi che è già eh di per sé un eh una polemica ma che potremmo anche guardare ehm dopo se vogliamo ecco eh allora cosa dire eh fare le solite premesse per quanto riguarderà poi eh le immagini no? ehm quello che mi è costato le due ore e trenta di introduzione nell'ultima conferenza nella prima eh speriamo non l'ultima conferenza ma in quella che insomma abbiamo fatto eh pochi giorni fa pochi settimani fa ehm le premesse sono nelle conferenze noi spieghiamo il simbolo spieghiamo il simbolo magari la prossima volta lo faremo in modo molto più abbreviato però io uso comunque dare delle informazioni di base per cui la lettura delle immagini che poi avremo che manderemo sarà più agevole per lo meno sarà eh gli sarà stata 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 data una chiave di lettura per cui non si non si ha il cosiddetto shock ehm visivo ecco eh questa cosa comprende questa questa introduzione eh doverosa comprende il simbolismo la forma simbolica che possiamo passare dall'archetipo che è un vuol dire è una una forma un modello un marchio che si riferisce a tutti noi indistintamente quello umano per così dire e poi però passeremo alla spiegazione nelle conferenze non qui del della suddivisione della simbologia per come viene decodificata cioè l'allegoria che i greci chiamavano etos la leggenda eh che che con Jung si chiamerà epos e la favola il pathos cioè dietro un'immagine in realtà c'è una lettura di un qualcosa secondo alcuni eh metodi secondo alcune chiavi quindi l'immagine che viene proiettata in realtà non descrive quello che si sta vedendo perché dietro per esempio dopo l'allegoria cioè dopo la forma la costruzione dell'immagine seppur simbolica o iconica ecco abbiamo la metafora cioè cos'è la metafora è un concetto che spesso o si contrappone o comunque è diverso da quello che l'immagine proietta cioè io ti faccio vedere qualcosa in sintesi ma te ne voglio dire un'altra ecco da qui partono poi chiaramente tutte le scuole esoteriche che si basano proprio sulla decodificazione oppure la codificazione del simbolo ecco per quanto riguarda il simbolo archetipo una questione diversa ma va affrontato ehm di per sé come ehm argomento unico diciamo e adesso possiamo passare con la seconda immagine ok anche se una domanda lo farti Dio è in tutti voi può dare una piccola spiegazione su cosa si intende anche Malanga dice Dio siamo noi Dio dentro di noi lo sentirai lo sentirai spesso eh però io ci vorrei quando arriviamo all'argomento perché adesso perfetto perfetto se vuoi mandiamo immediatamente la presentazione del ehm per così dire del dei capitoli no che che ci interessano eh vediamo quando quando arriva la posto perché non è non ce l'ho ancora sì sì ecco questa dice una serie di slide no cosa dice il massimo due ok no no e allora io la metto su adesso la faccio prima ok ok vediamo purtroppo questo è stato oggi il la nostra la difficoltà che abbiamo trovato ma insomma eccolo qua vediamo beh quando si vogliono condividere certe conoscenze sai il diavoletto si mette sempre in mezzo la qualità di utente ospite può caricare massimo due serie di slide quindi accedi o registrati cosa dici ecco c'è chiedo alla regia di Londra di risolvere questo problema sì intanto possiamo iniziare anche senza mandare la slide a parlare del oggi parleremo del cristianesimo simbolico quindi io mi occuperò essenzialmente eh della eh della simbologia che ha portato il cristianesimo eh fino eh ad oggi da da duemila anni ecco quindi faremo una diciamo scusa steve lo interrompo c'è la la regia di Londra se vuoi invia invia l'email a info.org e le posta la regia di Londra ok ok ah meglio sì perché così sì manda queste slide quindi le cura la sezione di Londra è una limitazione che ha streamiar nei tuoi confronti scusate l'inconvenimento tecnico ragazzi ma sappiate che il diavolo contro tutto ciò che è digitale viene controllato da lui quindi qualsiasi limitazione è normale mi dici mi dici la mail scusami come scusa la mail forse non ce l'ho in chiocciola numero 6 punto org chiocciola numero 6 sì info chiocciola numero 6 numero 6 6 numero punto org la manda al team la manda al team sì sì mandano lì stanno aspettando oggetto immagini l'oggetto schiera mio di queste foto cosa devono rappresentare sono tutti curiosi e quindi le foto devono essere postate scusi stasera straordinario vero susi poi mi insultere in privato non non voglio gliele mando man mano che carico vediamo tanto soggetto e quindi come stavo dicendo faremo ci occuperemo del cristianesimo non me ne voglia qualcuno io mi posso tranquillamente occupare anche di testi biblici e di diversa diciamo estrazione però fatto sta che il cristianesimo ci ha dato per così dire ecco me le sta caricando tutte quindi posso anche andare oltre vediamo ok quante religioni esistono stefano nel mondo nel pianeta terra le religioni sono più di 140 160 ormai non se ne contano più no mi piaceva mi piaceva dirti invece darti qualche informazione sul invece sul sul testo che tutti chiamano la parola di dio scusami se rido ma forse arriverai anche tu ce ne sono in giro praticamente versioni seppur modificate non sostanzialmente però modificate più di 53 mila il nuovo testamento in giro ma era il nuovo testamento in realtà nasce in confusione il primo concilio di nicea praticamente voleva mettere ordine e infatti proprio in quel concilio voluto dal dall'imperatore costantino nel 325 barra 27 creò il primo scisma fortissimo d'oriente e d'occidente visto che furono chiamate tutte le chiese che si conoscevano praticamente e allora questo ha già creato in partenza le le scissioni queste scissioni che si sono eh chiaramente eh che sono dovute eh a interpretazioni differenti che avevano le le varie chiese come venivano chiamate ecco e quindi eh di fatto eh si può dire che eh non vi è una versione eh univoca per così dire ma purtroppo a me è colpito l'antico testamento cioè l'antico testamento il dio era cattivissimo cioè faceva sgozzare uccidere donne incinte bambini poi nel nuovo testamento diventa buono cioè persino Don Nuzio Nittoglia mi disse eh l'antico testamento non è per tutti vuole interpretato no l'antico testamento parla del di un dio terribile in realtà c'è un bellissimo articolo che se vuoi te lo giro dove ecco intanto invio le immagini e vediamo consenti anche un bel link no io l'ho letto l'antico testamento e mi ha mi ha toccato perché c'è un dio tremento che faceva sgozzare decapitare cioè ne ha fatti tutti i colori abbiamo in realtà veramente una una miriade di riferimenti dove praticamente ma anche con i patriarchi anche con eh esclusivamente con le figure diciamo importanti da Davide a Mosè eh tutti compiono atti di violenza che chiaramente dai teologi vengono giustificate come come posso dire atti che comprendono un po' un contesto di 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 conversione o quant'altro sicuramente erano degli atti eh che noi in questi tempi eh non non possiamo assolutamente accettare insomma ecco certo dalle percorse alle decapitazioni eh quindi sì 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 quindi si sono i sacrifici i sacrifici erano all'ordine del giorno sì i sacrifici erano all'ordine del giorno e fino a che non vi è una conversione che noi conosciamo bene il passaggio eh dove dalla dalla conversione cioè dal sacrificio del dell'uomo con Isacco si passa in realtà al al capro espriatorio cioè l'angelo gli dice basta eh tagliare la testa anche se è tuo figlio ecco sì 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 ma a me ha sempre colpito cioè che bisognava bruciare queste carni queste grassi perché rilasciamo un odore particolare ha un significato secondo il tuo punto di vista eh sì lo capirai eh più in là ok ok mi dispiace darti questi smalti mi diceva eh perché io sto seguendo la parte tecnica della live non allora dovresti mandargli in pdf ok oh mio dio yes yes no stiamo siamo 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 un po' nei guai eh il diavolo ci si me raga è il diavolo eh sappiatelo no perché avrei dovuto prepararteli tutti se vuoi io riprovo dice no magari crea un pdf unico con tutte le immagini puoi no perché sono immagini che vengono fuori da un da un carrello di immagini da un rullo che noi mandiamo in slavid praticamente devo trasformare è più suspense questa e quindi mi devi dire dove mandarti tutte queste jpeg le jpeg posso mandarle puoi mandarle in in nell'indirizzo email che ti ho dato prima no posso mandartela in whatsapp a te puoi mandarle a me se vuoi le giro sì sì però mi serve in pdf mi dice eh no in pdf devo trasformare perché io non uso il pdf per le immagini mi dice che deve mi scrivono dalla regia che devono essere in pdf streamia supporta solo pdf poi parlerò col boss di streamia per vedere cosa si può fare per il futuro intanto volevo salutare tutte le persone che sono online ragazzi abbiate pazienza ma quando si divulgano certe informazioni queste sono le cose che accadono ne so qualcosa guarda in pdf le le sto mandando in whatsapp vediamo man mano gliela mando un sat via facciamo così le stai mandando a me o a o londra numero 6 a cristina a no perfetto a cristina perfetto va benissimo ok sì la mandata sentirai anche il sottofondo dai ogni volta che mi serve l'immagine la facciamo così mi dispiace aver anche perché è abbastanza lungo quindi sai però facciamo così pdf va bene la mandiamo a scrivania io andrei avanti se vuoi consiglio sì sì possiamo andare avanti e man mano vediamo anche magari di fare quelle più importanti e allora sì però puoi mandarmi se vuoi direttamente e questa quella che gli sto dando adesso perfetto ok allora diciamo subito che il cristianesimo da dove arriva il cristianesimo questa è una eh tutti pensano che il cristianesimo in realtà arrivi da una conoscenza per così dire eh recente no se parliamo di della della venuta di cristo comunque recente e noi cercheremo di di capire se questa invece eh conoscenza in realtà ehm provenga da da eh secoli forse millenni 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 prima insomma ecco quindi eh se puoi mandarmi l'immagine del sì le sta scaricando mi scrivo che le stanno scaricando considera che tu sei in Italia e loro sono a Londra e io sono in Costa Rica qui c'è tutto un giro di di file che gira per il mondo e prima il prima il progetto e ce non le sta guardando per vedere che foto sono sai non sono contenti che c'è quanto vengono divulgate ah ecco 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 opposto siamo allora sicuro che non ce le passo no peccato perché mi diceva che io non potevo condividerle con te se non no perché purtroppo è un problema di streaming arti cioè tu essendo un ospite non avendo creato tu l'evento ti mette questa limitazione sì è tua esperienza no no ma figurati figurati tanto ci abbiamo anche da dire quindi non è non è quello insomma va bene io sono felice che sono nel mio nuovo studio con aria condizionata con tutto quanto quindi sono felice di lanciare questo nuovo format eh sì è un bel format insomma eh sono notizie importanti quindi noi dobbiamo cercare di ma le nostre live quando le faccio con te spaccano perché dici cose uniche ok un po' come ci insegna anche la biviana la conoscenza ci renderà libri quindi se possiamo anche illuminare delle persone a far vedere un altro punto di vista poi è la singola persona che decide cosa fare ok non dobbiamo indottrinare nessuno noi non siamo lo Stato non siamo il governo cerchiamo solo di divulgare delle informazioni no ma figurati se noi abbiamo la presunzione ma non ce l'abbiamo neanche adesso che comunque sia daremo delle rivelazioni che tra virgolette dipendono sempre da eh da noi stessi nel senso che siamo noi a eh a definirle delle rivelazioni proprio perché eh crediamo che che sia importante insomma ehm rivelare alcune possibilità di veduta simbolica che però posso dirti che proviene da studi per così dire decennali se non ventennali per quanto mi riguarda quindi capisci che eh eh per fare quegli per fare quegli studi hai letto qualche libro che sta all'interno del Vaticano per caso eh guarda tu hai un intuito abbastanza particolare però ti posso dire no ti posso dire con serenità che questi il nuovo testamento in realtà è un antico testo biblico scomparso cioè oppure trasformato nel nome io eh ai cabalisti eh che che girano un po' nel mondo darò la mia ehm interpretazione c'è eh persino dirò di che che tipo di libro e come si chiama il libro perduto di cui io gli ho dato anche un titolo sulla base dei libri che la cabalà ci consegna evidentemente ehm per così dire sotto sotto altri titoli sotto altre forme ok quindi finisco quelle quelle cosmiche e così le facciamo tutte e poi partiremo con quelle dell'altro capitolo quindi se le sta caricando può partire anche con la prima secondo me sì sto ho già scritto la redazione vediamo un po' cosa mi rispondono sì sì per me va bene sono in pdf sono su su whatsapp quindi va bene allora cosa dirti cominciamo a dire già sicuramente adesso vedrete un'immagine che praticamente tutti conoscono dal punto ormai e per fortuna di quando si parla dell'era dei pesci e l'acquario e il famoso eh cambiamento eh cosmico no cosa allora eh dobbiamo dire subito la precessione delle equinozi evidentemente è quello che comporta questo tipo di eh di conoscenza cos'è la 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 precessione delle equinozi è l'oscillazione rotatoria della terra che crea quell'angolo di 23 gradi per cui quando ruota intorno al sole compie su se stessa questo cono per così dire che comprende la costellazione che chiameremo precessione delle equinozi che per completarla totalmente nel rapporto del girare attorno al sole e ruotare intorno a se stessa ci mette la bellezza di venticinque mila novecento venti anni questi venticinque mila venticinque mila novecento quasi ventisei mila anni oltretutto è anche un numero divino no il ventisei eh ecco quindi stiamo parlando di 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 così venticinque mila anni non è sicuramente eh un'età che l'uomo può contemplare nella sua vita e allora questa deve essere contemplata evidentemente in settori che le chiameremo ere ecco queste ere chiaramente sono facciamo un calcolo molto approssimato eh se dividiamo quelle venticinque mila novecento venti anni diviso il cerchio di trecentosessanta perché lo si fa ruotando su se stessa ci darà settantadue anni per ogni grado cioè noi ci spostiamo visualmente con questo ipotetico ehm con questa ipotetica visione di queste stelle che poi chiameremo zodiaco eh lo chiameremo dopo comunque zodiaco precessionale per così dire ecco ogni settantadue anni si sposta di un grado ok quindi se noi facciamo poi trecentosessanta gradi ci sono i dodici segni diviso trenta settantadue anni dovrebbe fare più o meno duemila centosessant'anni per ogni segno quindi effettivamente ci torna il conto perché se consideriamo che il cristianesimo conta il zero c'è come indicazione ci dà proprio lo zero esattamente noi siamo a duemila e ventitré anni qui ci dà un'approssimazione di duemila centosessanta fatta con i numeri con la matematica ecco ma sappiamo benissimo che sia la precessione delle equinozzi e sia la precessione solare che è da indicazione a quello che sto per dire uno dei mesi che noi consideriamo più corto il febbraio dovrebbe corrispondere al settore circolare eh meno eh con con una durata minore pertanto quei centosessanta eh anni di diciamo di eh di eccessivi e di eccesso d'accesso andrebbero poi a essere smaltiti proprio da questa riduzione di un settore troppo difficile no stiamo passando praticamente dall'era stiamo finendo l'era dei pesci per entrare in acquario questo porterà un grande cambio dal punto di vista sincretico all'uomo cioè l'uomo eh vive eh praticamente una eh condizione cosmica dovuta proprio a questo sincretismo cioè a questo movimento sincretico tra il cosmo stesso e la sua posizione chiaramente se stessimo su Marte la precessione era diversa e le influenze sarebbero diverse noi lo vediamo sempre dal punto di vista e diciamo cartesiano come si dovrebbe dire cioè lo vediamo sempre centralizzando noi come punto di riferimento va bene ecco da dove arriva però tutta questa eh conoscenza è sicuramente da dove poi derivano alcuni eh simboli lo diciamo subito già nel nel mito babilonese sumero babilonese quindi troviamo cinquemila e qualche cosa in più abbiamo troviamo proprio la suddivisione della triade dei grandi idee delle grandi idee o abbiamo già una ehm una letteratura proprio perché la storia parte dai sumeri quindi e e cominciano proprio oltre a a a ai calcoli numerici delle delle merci e per cui è la motivazione per cui eh si comincia a scrivere qualcosa ecco si ha una descrizione di un panteon di dei eh tra cui nella triade già sumero babilonesi oltre ad anu ad enli compare un un certo ea o ya ecco già abbiamo un cenno di un dio ya e poi ci ricorderà qualcuno ecco questo divenne questo dio ea o ya divenne eh un sovrano delle acque e degli abissi ma eh alla fine lo conosceremo poi nel panteon successivo babilonese proprio con il nome di Dagon ecco a questo punto io mi avrei dovuto dare l'immagine di Dagon per far vedere a tutti che il Dagon in realtà è un dio che ha sul sul capo proprio un pesce con un mantello fatto della sua eh della sua libreria sì mi dico mi dico che sono dei file pesanti per quello non sono ancora disponibili sta caricando però sono pronti li li postiamo io credo che non ce la facciamo eh perché sono veramente tanti sono tanti e o dobbiamo rimandare questa cosa dalle immagini altrimenti eh un po' la rivelazione dice che non si carica no come ti dicevo io lo sapevo già che poteva accadere non si caricano eh l'ho detto sono passato attraverso tecnologie controllati e cioè non li carica si sta provando a ridurre i file perché sono file molto pesanti sì sono sì se lo fai in pdf è ancora credo pesante in jpeg non credo sono in caricamento comunque mi dice sono in caricamento li sta modificando comunque vai avanti se sono pronte ti do l'ok ok 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 quindi il questo dio Dagon in realtà era un dio conosciuto già nel periodo sumero babilonese ecco e praticamente aveva già questa divrea questa questa vestigia ehm a forma di pesce quindi che è assolutamente eh simile per non dire eh sovrapponibile proprio a quella che conosciamo essere chiamata la la tiara o la mitrea del del papa cioè quella la mitrea quel cappello lungo del del pontefice o comunque alcuni nescovi anche lo indossano che c'ha proprio se lo vediamo dal lato ha proprio una forma di una bocca di pesce così allungato ecco che cosa ci vuol dire questo che cosa vogliamo insinuare perché in questo caso stiamo insinuando stiamo insinuando il fatto che magari questa conoscenza provenga proprio da quel eh periodo cioè era una conoscenza in realtà eh nota fin dai primi tempi eh della della storia dell'uomo cioè la storia vuol dire ripeto sempre la storia vuol dire esattamente quando l'uomo comincia a scrivere io invece dubito anche di questa versione perché credo che l'uomo invece eh aveva già scritto anche prima ma che quello che ci arriva in realtà è quello che ci hanno voluto far arrivare quindi su questo fatto alcuni libri di storia gli scrive chi vince le guerre già lo sai come funziona eh sì più che altro in quel periodo se lo se lo collochiamo al periodo post di Luviano evidentemente ci può essere una giustificazione dal punto di vista proprio della 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 perdita di di alcuni documenti ecco eh quindi nella eh nella perdita di alcuni documenti allora è molto probabile che ci sia anche la perdita di dei testi sacri però sicuramente è un periodo in cui poi vengono eh riscritti quindi anche la polemica del fatto che i sumeri non siano menzionati nell'antico testamento come già diceva qualcuno molto probabilmente perché quelli che li stilano evidentemente non si eh non si propongono come eh ma come autori e quindi l'autore non è che dice io sono l'autore ecco eh e allora i sumeri molto probabilmente rientrano anche loro in questa categoria perché praticamente eh anche se non è scritto biblicamente che loro hanno esistiti dal punto di vista proprio anche delle scritture bibliche in realtà è molto probabile che l'abbiano redatte comunque Stefano ovviamente stanno lavorando a Londra per risolvere questo problema stavo pensando che comunque questa stessa live verrà rieditata cioè la scarichiamo e mentre parli eh faremo apparire le fotografie per risolvere questo problema quindi voglio dire sappi che tu parla tranquillamente quindi faremo un'altra versione quindi identica a questa però dove appaiono anche le fotografie mentre parli non mi credo un'altra soluzione ah ecco ah ok ok abbiamo a Londra abbiamo Apple quindi stanno un pallando anche gli Apple voglio dire allora allora l'idea di caricarle proprio rieditare il vicio lì lasciamo la live così però mentre parli faremo apparire la fotografia lo editiamo capito ah quindi non è più una la diretta la mandiamo senza immagine ecco così non veniamo censurati no no andiamo avanti così e poi facciamo un'altra versione la scarichiamo sì sì no va bene per me va benissimo qualsiasi soluzione per me va benissimo devo allora andiamo se risolve mi avviso ok sì sì mi son fermato comunque va bene ok io quindi posso partire posso descrivere le immagini senza che che magari poi ecco le potete poi ricollocare durante il ecco perfetto allora dopo l'immagine insomma del ah cosa vogliamo dire ancora del del dio eh sumero babilonese eh Dagon eh abbiamo detto che prendeva diversi nomi per esempio per i per gli ebrei era Zagon o comunque Dagon e quindi era anche conosciuto nel nel mondo ebraico eh ad un certo punto però eh questo questo dio prende anche un altro nome nella seconda fase babilonese quella che porterà poi eh al oh stanno arrivando le foto perfetto perfetto vediamo quale che devo postare prima eh vediamo se è questa dimmi se confermami se è questa o ecco questa è la precessione con lo spostamento diciamo dell'asse visivo dal dai pesci all'acquario lo vedi sulla destra praticamente lo lo vedi in oltretutto io cito anche metto faccio le citazioni dei dei versetti per cui ognuno di voi può andarsi a vedere il versetto chiaramente noi nelle conferenze lo citiamo lo eh praticamente lo 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 discutiamo ma in questo caso eh no quindi il prendetevi il versetto e andate a vedere trattasi proprio della eh passione di Cristo quando in realtà parla e dice ai ai suoi discepoli che lui passerà e che quindi bisogna seguire un uomo con con una brocca in alcune versioni c'è un uomo con un'anfora evidentemente nel Marco 14 21 si parla proprio in modo eh critico del segno dell'acquario quindi evidentemente a ragione delle nostre eh delle nostre supposizioni diceva un un caro amico ecco questo è il capitolo che ci dice il cristianesimo cosmico e l'era dei pesci chiaramente è tutto un capitolo voi vedete solo l'immaginetta avete visto adesso che contempla questo questo passaggio se vuoi rimetterla quella la del 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 Cristo visivo ecco noi abbiamo è un già descritta nella slide un'antichissima conoscenza astronomica sulla fine dei tempi cioè i tempi che finivano esattamente nel momento in cui si passava da un'era ad un'altra ecco quindi l'era del Cristo evidentemente era conosciuta anche per la sua per il suo termine per il suo fine da notare che ho messo in questa slide non diciamo non per motivi eh diversi da quelli che spiegherò eh il Cristo con la con la corolla si spinge in realtà dobbiamo dire subito e lo avremmo detto nella spiegazione della simbologia del simbolo che noi non dobbiamo dare il simbolo come univoco nell'esoterismo il simbolo ha delle diverse collocazioni magari in uno stesso contesto e quindi in questo caso vi dico subito che il Cristo che vedete in realtà in questo caso un po' si intende quella corona temporale che fa passare dai pesci all'acquario ma che poi sarà riferita ad un'altra questione che però esotericamente le unisce quindi il simbolo non è univoco cioè questa figura non vuol dire solo ed esclusivamente la precessione quella corona di spine non è solo ed esclusivamente la precessione e come guardate chiaramente dal punto di vista diciamo esoterico guarda verso l'alto quindi è plausibile anche questa sua collocazione però in realtà poi troveremo quella più importante che sarà proprio una delle rivelazioni di questa sera va bene e allora possiamo per esempio se vuoi mandarti allora sì possiamo parlare magari mentre ti ti mando qualcosa ti mando quelle a seguito possiamo parlare anche del del simbolo del cristianesimo cioè il cristianesimo in realtà anche nel suo simbolo ci ricorda il pesce giusto cosa del pesce praticamente e parliamo esclusivamente del paleocristianesimo cioè quel cristianesimo che poi sarà definito in più tardi come il l'ognosticismo cristiano in realtà è quello che precede un po facciamola semplice quella che precede il concilio di nicea cioè 200 anni anche se già si fa risalire il paleocristianesimo fino a paolo che sono 40 anni dopo in realtà però abbiamo una serie di falsi e di questioni che andrebbero poi per così dire analizzate o viste con con altri altri studiosi ecco noi diciamo che questa conoscenza sicuramente si rifà a quella del simbolismo cristiano si rifà a questo paleocristianesimo cioè i cristiani dei primi tempi per così dire ecco scusate i rumori ma metto da parte ogni volta che e se hai sicuramente altre immagini da poter farmi mi dicono che del pdf solo quelle due sono state mandate perché se le mandi in jpeg non funziona vanno mandate solo in pdf ok ti mando il pdf no no il pdf te le sto mandando ti mando le ultime mando il dagon anche così lo vuoi mettere ok ok c'è una strana live ecco ma guarda io ho dato nella vita che tutto ciò che è digitale è controllato da lui quello che io definisco satana lucifero e cose varie quindi è lui a decidere se farle vedere o meno beh si dovrà scontrare di mandargliele tutte sì avrà cambiato nome però no tutte perché io le devo lavorare in pdf se le vuole tutte in jpeg sì ma tutte in pdf no no jpeg non può non può eh capisci devo trasformarle tutte quindi no è problema che pochi sanno il discorso del fuso orario io sono fuso orario di otto ore diverso tu sei là poi c'è londra e quindi è tardi poi da lì tante dinamiche diverse no guarda alla fine facciamo come hai detto tu se vuoi io posso decidere sì è meglio io guarda vai a ruota libera questa io la faccio rieditare questa puntata aggiungendo tutte le foto perché è meglio altrimenti non la finiamo più facciamo così anche se però sai cosa che eh almeno 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 vediamo vediamo quante vediamo almeno un paio di fartele vedere perché sono in realtà sì io direi di di tre o quattro di fartele vedere via perché in realtà poi non non abbiamo esattamente il risultato che vogliamo ottenere e quindi eh sarà necessario evidentemente far vedere qualche immagine perché quella che ci doveva poi trasportare ma guarda il documento più importante te lo dico la live è bella perché c'è interazione con l'ospite però c'è che conta è quello che tu dici ovviamente quello il file più importante è dopo è il video che è caricato su youtube allora c'è un documentario completo la gente può vederlo quando vuole ok con tutte le fotografie io farei così vai a ruota libera accorta tutte queste rivelazioni e dopo faremo caricare ogni foto per ogni cosa che dici è l'unica soluzione facciamo così vediamo ok allora io ti stavo dicendo che nel palio cristianesimo quindi eh oltre ad altri simboli quello prevalente che in realtà ehm indicava ma anche una certa appartenenza segreta del palio cristianesimo era proprio il il famoso iqfis che in greco eh vuol dire proprio pesce ed eccoci ehm cos'era questo iqfis era praticamente un simbolo che doveva rappresentare il Cristo eh nella sua eh decodificazione nelle lettere greche proprio troviamo il il famoso eh jesus christus teus io soffero cioè sarebbe proprio il 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 Gesù Cristo eh che che poi doveva essere identificato come figlio figlio di Dio insomma ecco e e allora che cosa ci diceva Gesù Cristo figlio di Dio re salvatore ecco e che cosa ci dice anzi diciamo subito qual era il meccanismo per cui ci si riconosceva cristiani no? Ecco ci si riconosceva cristiani eh facendo un segno una mezzaluna per terra sulla sabbia l'altro cristiano che si voleva riconoscere rifaceva dal lato eh opposto l'altra mezzaluna che doveva poi indicare eh sarà sicuramente in sovraimpressione adesso il pesce con l'iscrizione interna di eh Gesù. Xeio. 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 Di solito Xeio oppure Xeio erano le codificazioni va bene? Sì. Ecco. Allora io vado per ordine così mi mi apro anche io le le slide che che vado a commentare. Perfetto quindi questa possiamo chiuderla anzi eh l'ultima slide che voglio mandarti che manderai poi nella ricostruzione sarà quella della precessione delle equinozi in realtà questa è già una praticamente una rivelazione perché l'ho sempre tenuta per me non l'ho mai regalata a nessuno ma io a te voglio donarla perché non l'ho pubblicata. Ecco ma in realtà si parla esattamente del del famoso Sator. Quanti ci hanno detto il Sator il Sator vuol dire questo vuol dire quello. Praticamente ecco qui siamo nelle immagini precedente della discussione della precessione delle equinozi secondo la mia interpretazione ehm diciamo eh temporale anche riportata nei testi sacri quel settantadue eh che viene sempre riportato nei demoni negli dei e quindi eh anche da da Leonardo da Vinci quando lo nasconde sotto un ponte. Ecco. Ah ecco ce l'hai dunque. Ah questo è il regalo che questo è il primo regalo che ti voglio fare praticamente. Che cosa stiamo guardando insieme per la prima volta sulla 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 nostra sulla nostra diciamo diretta? Stiamo guardando in realtà il senso del Sator. Innanzitutto Sator cos'era? Era un quadro magico evidentemente conosciuto già all'epoca nella sua magia nella sua eh diciamo natura magica per così dire. Poi diremo cosa vuol dire magia e quant'altro se vorrai ma non abbiamo il tempo. Però come vedi se tu leggi da destra a sinistra praticamente leggerai rotas. Quindi se io leggo da destra a sinistra evidentemente cosa devo ruotare o cosa devo guardare ruotando? L'unica cosa che ruota al contrario di come noi ruotiamo sul sole è la precessione. Quando noi consideriamo la precessione delle equinozzi i segni zodiacali quelli solari che noi conosciamo per tutti i mesi dell'anno non vengono in sequenza come li conosciamo noi ma vengono al contrario. Quindi ecco perché si passa dai pesci all'acquario altrimenti dall'acquario da noi qui dal sole si dovrebbe passare in pesci. Ed ecco la rotazione. Tieni quindi un'opera rotas ma l'indicazione è contraria. Evidentemente in questo quadro magico che io gli ho messo una croce templare evidentemente si ricordava proprio la prima legge che riguardava il cristianesimo. Cioè quella della precessione degli equinozzi nell'era dei pesci. Spero tu sia contanto. Lo vedi. Tenete opera rotas mantieni un'opera rotante. Nulla di numerologico. Ci sarà sicuramente una visione anche numerologica. Quella non la escludo. Però sicuramente l'impatto questi quadri magici che venivano posti all'entrata di alcune caverne, di alcune diciamo stanze segrete doveva ricordare proprio ai cristiani paleocristiani che dovevano mantenere questa informazione per capire poi il tempo come trascorreva da un punto di vista evidentemente divino. Cioè quello di una precessione che durava. Cosa può durare 25 mila anni se non una rotazione divina? La nostra dura 360 giorni divisa in 12 mesi. Ma abbiamo detto è contraria. Va bene? Ruota al contrario. Quindi questo io te l'ho voluto regalare. Ed è la prima volta che lo vediamo. Se lo rivediamo in giro vuol dire che lo hanno preso da qua. No, si immaginare che alcuni membri del Vaticano stanno seguendo questa live per vedere se sconfini nella conoscenza. Eh, io spero di non... di non... che non la stiano guardando perché sicuramente noi... facciamo una brutta... Ti confermo che la stanno guardando. Ti confermo che la stanno guardando. Ok, qualcuno si potrebbe arrabbiare ma si possono arrabbiare anche altre religioni, nel senso che io comunque non mi sono soffermato. Oggi facciamo il... eccolo qua. Ecco, vedi, ad un certo punto con questa immagine abbiamo un quadro completo. Cioè abbiamo il Dagon, il Zagan, l'Ea e Ia e poi abbiamo addirittura Oannes. Oannes cosa ci ricorda? Beh, ci ricorda che c'è stato un famoso Oannes anche da noi nel cristianesimo, cioè Giovanni. Molto... però molto retiliano questo Deo, se tu guardi alle squame. Magari un modo di rappresentare prima. Guarda, lo vedremo dopo se hai pazienza. Perché ogni cosa ti ho detto non è univoca. Cioè non vuol dire soltanto una cosa. Il simbolismo, l'ermetismo purtroppo ha a che fare con questi riporti. Io non posso arrivare a degli studi così importanti se non attraverso sovrapposizioni e incroci di studi anche magari fatti con traduzioni dal latino, oppure ci sono traduzioni ebraiche quelle molto più importanti, di cui sono veramente un appassionato. Oltre che nella nostra istituzione avere la documentazione, per così dire, utile per decodificare alcuni di questi simboli. Certo, non tutti, ma vedremo. Quindi questa è la versione cosmica, che però poi un po' rientra anche in altre questioni che vedremo dopo. Va bene? Allora, ecco, già qui io ti dico che effettivamente possiamo parlare di depistaggio, per così dire. perché entriamo, dopo questo, entriamo nel capitolo secondo, che se non ce l'hai, vuoi, te lo mando? Se vuoi ti mando. Non so se tecnicamente ci riusciamo. Vai avanti, vai avanti. Ok, sì, no, praticamente si parlava nel secondo capitolo, entro direttamente a gamba tesa, il titolo è proprio, il Cristo anatomico, il cristianesimo anatomico. Il cristianesimo anatomico. Cosa vuol dire cristianesimo anatomico? Mi sembra un po'... E qui dovrebbe partire la nota che se vuoi impostare le cose, devi mandare tutto assieme, altrimenti non ce la fanno, devi mandare tutti fai l'assieme, allora riescono ad aiutarci, altrimenti non ce la fanno. Eh, ma il pdf io non ce la faccio. Ok, perfetto, allora niente. Ecco, come detto, lo redditiamo. Dunque, avanti con la live, andiamo a redditarlo dopo, non preoccuparti. Sì, dovrei farlo, per così dire, in... Comunque, è chiaro, Stefano, scusa se ti interrompo, se hanno questo controllo nelle religioni che hanno il dono dell'immortalità, cioè sono qui da una vita, quindi riescono a scrivere quello che vogliono, modificare i testi anche antichi che vogliono, proprio perché hanno questo dono dell'immortalità, i nostri, chiamiamoli dei Dio. Qui mi prendi purtroppo fuori dall'argomento, cioè andiamo fuori tema. L'immortalità in realtà è una questione che dipende da altri concetti, da altre visioni. Non possiamo fare, purtroppo, aprire e chiudere parentesi, sarebbe anche controproduttivo perché ci sta ascoltando. No, no, certo, nel senso che però, se sono così potenti al fatto di lasciare la storia, a tutto questo significato, ovviamente sono superiori agli esseri umani, questo volevo dire in poche parole. No, in realtà, neanche questo, cioè io sono più per la visione umana terrena delle cose. Poi, chiaramente, ho anche io delle, per così dire, delle interpretazioni oppure delle idee che mi sono fatto, però non vorrei, ecco, approfittare di questo per dire che magari, insomma, l'eternità è una questione veramente differente, che veramente tocca anche poi l'esegesi biblica e, onestamente, ecco, non mi sembra nell'occasione, nel caso. Però, torniamo a noi, torniamo a noi perché hai, sicuramente adesso ce l'hai, un'immagine che ti ho mandato che ci può tenere il contesto. Allora, l'immagine che vedremo, o che riuscirai a mandare, sarà proprio l'immagine di un Dio che si trova in anatomia, no? Perché dico in anatomia? E perché dico il cristianesimo è anatomico? Poi vedremo la spiegazione biologico più che altro, è biologico umano, è anatomico. Perché dico questo? Perché in realtà qualcuno già lo sapeva e qualcuno lo aveva manifestato. Per esempio, è noto a tutti il Michelangelo Bonarrodi quando ci presenta alla Cappella Sistina la creazione di Adamo. È vero che questa è una scoperta che fu fatta nel 1500, insomma, da un architetto, credo, oltretutto. Però ci descriveva già un fatto codificato, forse sfuggito alla Chiesa dell'epoca, oppure mandato per volontà, dove in realtà si vede, ecco, tu l'avrai, sarà nota a tutti, si vede proprio Adamo che tenta, invece nell'originale lo toccava, il dito della divinità di Dio, che in questo caso doveva essere evidentemente Yahweh, Yahua o Yahua, chiamarlo Adonai per alcuni, che toccava di ovunque, sussisteva tutto un pantheon di questioni in una sorta di cranio, in una sorta di testa umana, una sezione del cervello umano. Quindi evidentemente Michelangelo aveva azzardato ad una conoscenza che io posso assicurarti essere quella della Rosa Croce. Questa conoscenza è assolutamente la vera conoscenza rosacrociana. Rosa Croce è scritto tutto per intero, nel mio libro spiego le varie evoluzioni dei Rosa Croce fino ad arrivare a quelli che qualcuno indica come promotori di quello che sta accadendo. Ma evidentemente non hanno nulla a che fare con quelli che sto dicendo io, che sto raccontando io. Il vero Rosa Croce in realtà aveva una conoscenza molto, molto profonda dell'uomo, per cui questo gli causa nel tempo una sorta di oppressione, per così dire, di una caccia alle streghe, perché i Rosa Croce si sono comunque saputi nascondere nei vari ordini che si sono susseguiti nel tempo. Ma vediamo subito qual è il tentativo della Chiesa Cattolica di oscurare un po' questo concetto. E il tentativo è proprio, partiamo dal nome che abbiamo dato alla trasmissione, alla puntata, Dio è in tutti voi. Ma se tu scrivi così, non lo trovi su Google. Perché? Perché il CEI ha modificato, l'ultima modifica del CEI, che non sto a dirvi cos'è, lo sapete benissimo. Nel 1994, con l'ultima traduzione, l'ultima pubblicazione, scrive «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà «Eccolo qui, eccolo là». E questa è la frase che termina dicendo «Perché il regno di Dio è in mezzo a voi». Questo dice il CEI e noi diamo per scontato che questa sia la parola di Dio. Va bene? Siccome dobbiamo sapere che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, evidentemente noi cosa facciamo? da bravi ricercatori, come fanno tutti i ricercatori. Prendono il testo originale e vanno a vedere se c'è scritto davvero in mezzo a voi o comunque tutta la frase. Bene, il Montanari, per esempio, che è un vocabolo di lingua greca, dà come unica possibilità di traduzione della parola entos con la parola «dentro», citando proprio l'errore del testo biblico. Quindi, come dovrebbe essere letta quella frase, che poi la riporteremo anche per un certo contesto al Vangelo di Tommaso, ma apriamo e chiudiamo parentesi. Come dovrebbe essere scritta e come dovrebbe essere letta dai fedeli? Dovrebbe essere letta, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà «eccolo qui, eccolo là», perché il regno di Dio è dentro di te. Il regno di Dio è dentro di te. Questo poteva anche rimanere così. Da un punto di vista teologico ci sta che Dio è fuori e dentro. Lo dice Tommaso, dice «è dentro di te ed è fuori di te». Quindi Tommaso è più gentile nel collocarlo dappertutto, però sempre mantenendo, anche perché Tommaso era scritto invece in copto, che comunque è un greco antico con qualche variante egizia. Però si parla sempre di greco antico. Quindi ento, etos, entos ed entos greco doveva sempre rimanere la parola dentro. Ma andiamo avanti. Quindi Dio è dentro di te. Allora se faccio… Mi puoi dare un'interpretazione? Che cosa si intende? Perché tutti si fanno questa domanda dentro di noi. Noi siamo… perché alcuni si dicono «noi siamo Dio». Se guardiamo il Rosacrociano, perché lo riconoscono tutti i Rosacroci di un certo livello, io non mi ritengo di livello, ma mi ritengo uno che può giudicare, secondo i suoi studi, che secondo me il Michelangelo Bonarrodi apparteneva ad un ordine dei Rosacrociano ed è stato, credo, uno dei più importanti. Allora se facciamo il nesso tra il dentro di te e già tenendoci solo questa, la creazione di Adamo, vediamo che il Dio chi è? Il Dio è lì nel cervello. E allora qualche cosa non torna. Ma andiamo avanti. E no, vorrei capirla questa cosa qua. Eh sì, perché se… Scusami, non è che abbiamo tradotto… Ma se il CETI dice «in mezzo a voi…» Eh, state bene, in mezzo a voi… Generico, certo. Oltretutto, Tommaso, oltre che dire «dentro di te e fuori di te» dice «alza la pietra e lì mi troverai…» Ma comunque sia anche lì un bel contesto generico, teologico, quindi ci sta. Qui invece c'è un messaggio che entra in un modo diverso, a gamba tesa. Cioè, dentro di te, da una parte, è proprio dentro di te, in Michelangelo. Quindi c'è qualcosa che ci indica proprio il dentro. Ecco. Ma manteniamoci con questo. In 1 Corinzi 6,19,20 c'è scritto «O non sapete il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo». Oh, ragazzi. Cioè, bisogna leggere e capire cosa si dice. «Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo». Anche qui ci dice che dentro, nel vostro corpo, c'è il tempio dello Spirito Santo. Cioè, il Dio dentro di te. Conferma. E che voi, e che avete da Dio, l'avete avuto da Dio, questa in ebraismo si chiama la Shekinah. Ecco, questa presenza divina dentro di te. e che non appare da voi stessi, va bene. Infatti, siate stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo. Stiamo parlando di 1 Corinzi 6,19,20. Potrei continuare fino a che dire di Giovanni 20,29, dove dice Gesù disse «Perché mi hai veduto, hai creduto». «Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Cioè, anche se tu non lo sai che Dio è dentro di te, alla fine comportati come se tu lo sapessi. Perché tu sei tempio di Dio. Ecco, questo dal punto di vista teologico è plausibile nelle loro visioni. Da un punto di vista esoterico, evidentemente a noi ci fa un po' alzare le antenne. Mettiamo in discussione che la lettura sia solo teologica, ma può essere assolutamente anche teosofica. Cioè, una visione interiore proprio nell'uomo della divinità. Ecco, questa è un po'. Ed ecco l'immagine compromessa, che è un'immagine che voi conoscete un po' tutti anche da quell'immagine del Ra egizio, dove comunque collocava il Dio in una interiorità, o comunque il Ra. Ecco, un'antichissima conoscenza celata nelle opere dei simboli religiosi. Ecco, una rivelazione che ci arriva da Raffaello. In realtà, oggi noi con la scienza la possiamo solo interpretare. Va bene. E magari... Che posso dire? Magari da tener conto, ecco. Ma dico, scusa Stefano, il terzo occhio si dice che noi siamo quasi anestetizzati, che non possiamo usare questo terzo occhio. E guarda... In questa illuminazione noi vivremo in un altro modo. Quindi cosa ne pensi di questa teoria? Io ti dico assolutamente sì. Ci arriveremo dopo, se hai pazienza. Perché evidentemente è uno dei nodi cruciali di questa nostra puntata. Guarda, mi metto la tua immagine sopra in modo da tenerti qui. Ok. Qui tengo solo il PDF. Ok. Allora, un'altra... dice Stefano, ma tu ce l'hai con la Chiesa Cattolica? No, io non faccio questo tipo di esercizio. Io in realtà posso assolutamente dire in diretta, qui con te, caro Morsi, amico mio, che io sono capace di decodificare tutti i testi biblici. Dal Corano a tutti quelli che voi sapete. Sai come? Con lo stesso, con la stessa chiave di lettura. Perché io adesso ti manderò un qualcosa che avvalora questa tesi. Per esempio, e avremo magari modo di commentarla. Questa ci comporterà sicuramente qualche minaccia. sapirai. Sì, capirai. Ho fatto i nemici in Italia, uno in più, uno in meno. Però salutiamo con l'occasione per salutare i membri del Vaticano che ci stanno osservando in questo momento. Perché ci vogliono bene. Io, in una mia conferenza del 2016, dove c'era presente un vescovo invitato da, c'era anche un rabbino, il vescovo andandosene via alle mie supposizioni, passando davanti, mi disse, quest'uomo è pericoloso. Poi, però, passando, mi fece l'occhiolino. L'occhiolino non lo voglio interpretare in altri modi. Però sicuramente aveva capito che io potevo dar fastidio alla conferenza. Io ne ho fatte tantissime. Comunque, Stefano, mi dicono da Londra che se tu prendi qualche minuto a mandare i tuoi PDF loro riescono a pubblicarli. Ok? Però devi mandare i tuoi file in PDF. Se vuoi prendi qualche minuto, ok, li fai tutti assieme, li mandi, e loro riescono a metterli qua sotto io riesco a pubblicarli. Ok, io te li sto, guarda, te li sto, purtroppo li devo trasformare. Questo è il mio tempo che ci sta. Io a volte vorrei aprire le biblioteche del Vaticano agli esseri umani, quelle che definisco scimmie, per dare un po' di conoscenza. Eh sì, 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 sì. Ecco, dai, saltiamo, così ti do. Anche perché, vedi, io ho detto adesso che avremmo avuto dei nemici già negli arabi con questa, questione del, di ciò che ti sto per mandare. Però poi te ne mando... Beh, guarda, io c'ho i servizi che non sate che mi seguono, quindi sappilo, questo lo so per certo. No, no, ma io ti dico che noi avremmo anche dei problemi, possiamo avere anche dei problemi in realtà con l'ebraismo, a cui io tengo moltissimo, oltretutto, quindi, cioè, non è che io mi vergogno oppure scelgo una religione se non un'altra. Io faccio i miei studi simbolici con rivelazione perché siamo nei tempi per cui l'uomo può allargare la sua mente, mantenere la sua fede, però cominciamo ad essere un uomo, cominciamo a vedere che c'è qualcosa che non torna da una parte e qualcosa che invece ci deve far pensare. Ma infatti io scindola la Chiesa con il Dio, cioè io credo in Dio ma non credo nella Chiesa, sono due cose completamente diverse. Per me la Chiesa è un'invenzione del resto degli esseri umani. Ecco, assolutamente tu dovresti mantenere questa tua, per così dire, posizione perché ti distingue e ti mette in categorie di persone elevate dallo Spirito. Però ogni tanto anche tu cadi nella, per esempio, nella, come posso dire, nella invocazione del Dio che deve scendere per... Io ti dico che qui nella realtà, nella materia questo non accade. purtroppo non ti... La informazione che ho io il mio Dio arriverà a Arco d'Ira, quindi... Sì, no, no, ma io ti capisco e guarda, per me non lo è stato mai, però vi capisco e capisco anche la vostra necessità. Io ti dico che da quando conosciamo la storia, quindi approssimativamente ci possiamo costare ormai a 5, 6 mila se non anche 10 mila anni, io ti dico che tutto ciò non è mai accaduto, quindi mi dispiace per te come gli altri mettervi in una posizione di disellusi, però... No, come si dice chi vivrà vedrà, sei d'accordo su chi vivrà vedrà? Ma chi vivrà? Io ti dico che immagina che l'Antico Testamento quando parla della fine dei tempi Gesù dice ascolta non passerà questa generazione. Cioè qua Gesù dice in realtà dicono altri insomma però mi hai capito. Non passerà questa generazione. Questo comportò anche un certo disagio a chi scriveva i testi subito dopo quando poi sono cominciati ad uscire i Vangeli scritti. Perché stiamo già nel 100, 200, insomma poi si comincia ad arrivare fino a quello che sarà il Concello di Nicea. Ma che cosa vuol dire questo? Che c'erano scritte delle cose in realtà che erano tutte pubblicitate per il cristianesimo dell'epoca. Capisci? Anche sulla vita e la morte di Gesù in realtà caro Morris cioè dobbiamo essere veramente moderni e aperti anche ai riferimenti storici perché la storia ci dovrebbe documentare oltre che la fede la presenza di un personaggio così importante. Io ti dico che storicamente questa figura almeno vista così come la vede il cristianesimo cioè che ha fatto miracoli che ha guarito ciechi che ha fatto cose pazzesche e poi ha risorto in realtà la troviamo solo nei testi biblici della chiesa nei scritti dei cristiani quando la troviamo in quelli ebraici dell'epoca sono sempre falsi oppure non si parla di lui quindi poi ci sono contemporanei a Cristo che sono storici già rinomati che non non lo citano ma tu potresti vivere oggi non citando un personaggio che fa che ha quelle protezze che fa quei miracoli per così dire ecco il cristianesimo si giustifica dicendo no perché lo odiavano non lo volevano e dunque non rientrava negli scritti canonici diciamo quelli laici oppure quelli comunque storici questo io onestamente non lo non lo vedo guarda però io vedo io mi sono chiesto se Gesù è mai esistito però io ultimamente ho detto che secondo me è esistito lo sai per quale motivo perché viene attaccato 24 ore su 24 in tutte le parti del mondo quindi tu non attacchi una persona che non esiste c'è un odio nei confronti di Gesù Cristo dove tu direi può essere anche programmazione neurolinguistica crei il personaggio e lo attacchi per dimostrare che è esistito però ti dico mi ha dato l'impressione che è esistito perché al di là di quello che c'è scritto nella Bibbia perché viene attaccato costantemente non lo so non lo so non ho le verità in mano che sia chiaro però dico mi ha dato quell'impressione non sono d'accordo anche perché ecco noi potremmo dunque essere anche mal visti come vedi dalla dall'Islam questo è quello che fanno loro si posizionano a terra nella preghiera del Salat esattamente come è posizionato il nostro cervello nel nostro crano e ritorna Raffaello Dio è dentro di te evidentemente magari gli islamici non lo sanno magari qualcuno lo saprà o lo ha supposto come stiamo facendo noi ma noi questa posizione ci ricorda molto il nostro cervello quindi anche questa è una per te una novità una una prima diciamo pubblica non l'ho mai fatta pubblica questa mia supposizione capisce anche il perché insomma insomma con l'Islam non si scherza però questo è quanto ma dice ma Stefano ce l'hai con l'Islam no ti ho mandato già un'altra immagine che potrebbe invece parlare ed altro sì mi dicono dall'ombra che se le immagini tutt'assieme è molto di faccia altrimenti non ci riescono ok no ma io sto mandando eccola qua ecco il sala se le mandi tutte loro cialiano possono gestirle che però se le mandi work in progress più complicati guarda io mentre parlo allora faccio tutto di seguito no ma non te le mando ma guarda io devo dire degli islamici devo dire devo spezzare una lancia a loro favore io lì ho conosciuto a Londra il termine brothers fratello loro veramente li trattano come un fratello io questo devo dire la voce alta roba che non ho visto nel cristianesimo me ne immagino che potrei fare mille esempi no no io ho ottenuto quando avevo la ditta ho ottenuto anche un pensa che per me era un operaio ma era un cardiologo in realtà che predicava l'islam e quindi lui si chiamava Fuad che vuol dire cuore ecco a ricordarmi e in realtà lui mi spiegò e mi insegnò il Corano da un punto di vista proprio della della conoscenza dice Stefano ti vedo appassionato e quindi io ti regalo questo studio dice loro è invietato anche lo saprai forse non lo sai ma loro non possono spiegare tutto a quelli che non sono di fede quindi a me fu veramente un caso eccezionale che fu comunque Stefano per questioni di fuso orario dico se puoi mandare le tue le foto perché poi la redazione che ho questa sera in redazione deve andare via quindi se le mandi tutte allora noi possiamo gestire le foto sì però le sto scegliendo in modo che ci teniamo perfetto ok grazie vediamo magari ti mando questa sì però possiamo discutere nel frattempo e mandarci ecco certo no no però ci treva a dire questa cosa io ho un sacco di amici arabi e cose varie lì veramente io mi ricordo quando ero a Londra e ero al top della carriera mi chiamo questo questo ragazzo molto religioso mi disse mori ma hai bisogno di soldi ma per quale Matteo perché io you are brother tu sei mio fratello io voglio aiutarti anche se non avevo bisogno hanno questo modo veramente di vederti come un fratello e quindi una grande stima assolutamente sono sono d'accordo con la tua visione perché l'ho riscontrata anch'io però devi capire anche che siccome le religioni oggi sono politica evidentemente i programmi politici devono portare non sono d'accordo come trattano magari le donne ti dico la verità su questo non sono d'accordo sul burga però ti dico se io ti dico come si tratta ecco qui per esempio se io ti dico come ha trattato la donna il cristianesimo tu ti metti le mani ai capelli cioè fa un esempio ragazzi fa un esempio l'esempio è quello più eclatante se vuoi te lo mando perché te lo stavo mandando ma poi mi dispiace ma dimmi 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 ecco no però in realtà la donna è anche magari troppo libera troppo emancipata c'è voglio dire adesso no 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 Morris per favore troppo questo troppo non mi piace cosa vuol dire troppo no nel senso perdono attenzione nel senso che la donna per me va rispettata la donna deve avere un'immagine adesso la donna sta diventando solo una prostituta se vai tu TikTok YouTube viene usata si usa solo per il corpo non per l'intelligenza che possiede in questo senso no 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 purtroppo sono critico con queste prese di posizione univo che ecco che fanno solamente danno no la donna è andata al cristianesimo scusa fammi l'esempio non è la donna guarda sono alcuni gruppi che noi conosci e te conosciamo bene che si stanno che stanno divulgando un certo tipo di sesso libero di educazione al trasgressivo però lasciano il tempo che trovano ma lasciano il tempo che trovano Morris perché perché noi viviamo anche di tradizione noi siamo in realtà quello che come ti posso dire da mille anni forse qualcosa in più abbiamo comunque una tradizione che ci ha accompagnati nell'equilibrio anche di questa visione no quindi voglio dire non è tutto così il mondo non prendiamolo tutto per marcio perché altrimenti siamo no certo però guarda una domanda che si fanno in tutti in tanti Stefano è come si sblocca la ghiandola pineale cioè si dice che se la sblocchiamo adesso che ci arriviamo se mi dai il tempo di caricare mi rimanga io sono curioso voglio saperlo lo voglio adesso lo vuoi adesso ma ci saremmo preparati prima tutta sta roba mi dispiace davvero non poter fare una diretta per così dire fluida fluente ma guarda mi portiamo a fare un altro non problema io adoro queste adoro questa conoscenza però ripeto a me piace poi arrivare sono tutti qui a guardarci quindi noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare insomma questo qua vediamo sembra in pdf no ti stavo dicendo commentiamo quella che magari la vediamo già lì sulla tua immagine che ce l'abbiamo questa praticamente che cos'è quello che vediamo no no quella di prima quella di Mosè il Salat ormai eccola cioè praticamente cosa sono le acque da dividere cos'era l'Egitto da passare cos'era la Passac dal punto di vista ermetico simbolico praticamente non era nient'altro che passare da un tipo di mentalità cioè di ragionamento come quello razionale perché devi sapere che i nostri lobby celebrali determinano poi il comportamento diciamo nella razionalità e nell'intuito a secondo della funzione dei loro lobby quindi il passare le acque in realtà poteva rappresentare dalla mia lettura quella che ti sto regalando per la prima volta nel mondo e questa aprire le acque era proprio passare da un tipo di comportamento ad un altro ecco l'Egitto era proprio questo tipo di comportamento razionale dove vigeva il faraone e quant'altro ecco anche loro gli ebrei vedete le tavole come erano fatte sembrano due tablet ma in realtà proprio sembrano disegnare proprio due lobby celebrali cioè ecco la divisione che poi porterà alla causa della nostra dualità la causa della oltretutto per alcuni testi è anche la causa della nostra morte cioè noi moriamo solo esclusivamente perché siamo divisi in realtà cioè abbiamo il nostro cervello diviso in queste due parti ecco io sto mandando altre immagini le mando in sequenza sempre perché ci sono rivelazioni una dopo l'altra che ti sto mandando quelle che hanno comunque abbiamo 353 persone incollate allo schermo quindi la prova che sono molto curiosa di avere alcune risposte ok no no ma ti ringrazio no ma forse qualcuno si è scocciato perché abbiamo avuto ecco che cosa è quella immagine che vediamo cominciamo ad avere qualche rivelazione cos'è questa immagine è il famoso Dio dentro di te perché guarda la posizione di Gesù mentre racconta a Maria la novella oppure quando la scusa Maddalena oppure quando la Maddalena asciuga con i capelli i piedi di Cristo e allora in prima mondiale ti dico che la piramide di Cheope in realtà era una rappresentazione dell'interno del nostro cervello quindi il talamo nella posizione centrale del nostro cervello al centro di tutta l'organizzazione del nostro cervello attraverso l'ipotalamo che segue un comportamento evidentemente di gestione ruolo di gestione nell'anatomia nella nostra diciamo fisicità nella funzione dei nostri organi una funzione molto speciale che è legata anche a quella della Maddalena che sappiamo tutti ormai essere poi quella della amigdala ecco questa nostra ghiandola che abbiamo anche noi nel nostro cranio perché la Maddalena è importante e non è il fatto che cade la chiesa se la Maddalena è la moglie era plausibile anche avere la moglie all'epoca anzi era strano non averla se non avevi una moglie eri lapidato all'epoca di Gesù quindi basta con sta chiacchiera di avere una moglie per Gesù era normalissimo averla potuta avere il concetto invece del non averla è proprio legato a questi concetti cioè ci devono riportare un significato ermetico esoterico perché ai piedi hai di Cristo perché l'amigdala si trova proprio ai piedi dell'ipotanamo e la funzione dell'amigdala è proprio quella di gestire le paure di gestire il nostro comportamento rispetto per esempio anche questo è importante perché la la visione della maddalena è anche vista come la prostituta in realtà perché l'amigdala ha funzione proprio della regolazione dell'impulso sessuale insieme all'ipotanamo quindi come vedi le funzioni del nostro cervello poi se rapportate ad un significato estrapolato decodificato ad un linguaggio ermetico evidentemente stiamo parlando delle funzioni del nostro corpo però sotto forma di allegoria di simbolo e poi chiaramente di metafora perché dietro il racconto poi ci spiega la funzione divina ecco la cosa importante nell'antico Egitto evidentemente queste informazioni si sapevano perché tu vedi anche nella posizione poi io ti regalerò un'altra puntata quella del talamo dell'ipotalamo e dell'amigdala proprio nelle posizioni della stanza del re e la stanza della regina che guarda caso anche in questo caso è posta sotto i piedi del faraone evidentemente anche qui ecco questa la puoi girare a a Malanga al professor Malanga che salutiamo perché possiamo dare anche lui una visione evidentemente rafforzativa alle sue tesi che stava in acqua cosa stava in acqua professor Malanga gliela mando così in acqua abbiamo l'ippocampo e allora quell'energia l'ippocampo che funzioni ha Morisano importantissime l'ippocampo conserva le memorie da trauma cioè se tu per esempio ti scotti dalla pentola col fuoco la migra segnala al talamo che c'è stata una scottatura poi automaticamente questa esperienza va a finire nell'ippocampo se tu l'ippocampo ce lo hai lesionato che è possibile tu ogni volta ti scotterai perché l'ippocampo non ti avvisa che questa esperienza è già avvenuta una memoria piena che non funziona una memoria che no non ti riporta all'evento tragico all'evento traumatico quindi tu puoi avere una migra che ti funziona bene ma magari l'ippocampo no e quindi tu ti scotterai ogni volta ed è tipico il malfunzionamento per esempio negli animali alcuni animali sono molto dotati alcuni no ma vediamo dove lo troviamo l'ippocampo l'ippocampo evidentemente si parla di acqua ed ecco nella raffigurazione di Poseidone abbiamo proprio i cavalli i cavallucci marini da cui il nome è l'ippocampo che si ha con la iconografia questa è l'immagine che non ti volevo mandare non so mi è arrivata se te l'ho passata la rimuovo se vuoi no no ecco magari la puoi tenere per cinque minuti poi la rimuoviamo per rispetto bravissimo perché? perché parlavamo proprio del contesto no ce n'hai un'altra la puoi mettere quella del roveto ardente no perché mi hanno detto che hai mandato anche delle foto già mandate quindi non ne ho altre al momento solo quella foto no no io gli ho mandato un pdf nuovo due Stefano mandami transfer con tutto ciò che mi hai la mandato no la faccio no praticamente gli ho mandato due pdf e se vuole su whatsapp ce le ha quindi evidentemente se le vuole mandare cosa era in riferimento quell'anatomia che io chiaramente faccio vedere in conferenza quell'anatomia parla in realtà di ciò che è il mezzo la donna per la chiesa cattolica la donna la figura della donna è il mezzo per cui viene al mondo Cristo attenti è il mezzo per cui non ha fino a diciamo al cristianesimo inoltrato chiaramente in un'epoca dove la donna non era emancipata non poteva avere un ruolo per così dire principale nella religione tantomeno un ruolo da madre di Dio cioè doveva essere il mezzo per cui entra Dio nel mondo ecco e rimane fino a tale perché anche il culto mariano trattasi in realtà e tu la stai vedendo magari se la vuoi rimettere per due minuti la rimettiamo sempre per educazione però se tu guardi bene la configurazione diciamo dell'immagine della Maria vergine evidentemente per avere un figlio buono dovevi avere una verginità femminile è sempre riportata come io lo devo dire perché mi prendo e mi assumo le mie responsabilità come una voggina che sta dentro un ubero questo e poi abbiamo tutti i riporti che ci fanno pensare questo dei testi biblici oltretutto puoi toglierlo adesso il femminino sacro comunque è stato un argomento ed è un argomento esoterico importantissimo ma non poteva essere al centro della religione cristiana non poteva stare al centro Cristina mi scrive non sta più dietro a questi file evidentemente ne ha presi troppo e allora purtroppo no se vuoi te li mando a te e moris ma è lo stesso perché devi poi trasformare è più complicato guarda più complicato noi possiamo fare così tanto è passata anche una bella oretta giusto un'ora e 41 minuti un'ora e 41 minuti che sono anche già abbastanza troppi nel senso e noi possiamo adesso rifare una puntata magari a giro a stretto giro sì però prima prima di parlare questo stefano scusa ti interrompo perché ovviamente io sono molto curioso le persone ovviamente sono più curiose di me una cosa importante perché possiamo fare una live anche nei prossimi giorni tu lo sai che a me fa piacere invitarti che sei una persona meravigliosa ovviamente con tutti i file già inviati organizzando le cose meglio però diamo una piccola spiegazione sulla ghiandola pineale perché tutti convengono che vi è il modo per sbloccarla per raggiungere la conoscenza o l'illuminazione puoi darmi un accenno su questo l'accenno allora mandiamo solo un'immagine e se ce l'ho il problema non ne ho altre immagini altrimenti la posterei no io posso mandare tre immagini e chiudiamo la trasmissione ok chiedo io mando la prima che è questa perché altrimenti non cambiamo e sono le rivelazioni in realtà ok mandami queste prima chiedi un attimo no tu chiedi io te le mando nel senso tu mandale vediamo un po' se si può fare guardate non mandate tre se se lavoriamo su quelle evidentemente possiamo chiudere la trasmissione perfetto manda le ultime tre anzi no purtroppo quattro ecco quattro altrimenti non riesco a chiudere il contesto ok perfetto allora Photoshop lo chiudo così ecco che cosa vogliamo dire a proposito di questo il cristianesimo in realtà caro Morris è dal mio punto di vista è evidentemente anche quello esoterico è rosa crociano ormai possiamo dirlo la rivelazione è questa io mi sono consultato prima con dei con i miei maestri del 33 per fare questo tipo di uscita mi è stato accordato nel 90% qualcuno ha detto ma non è è presto io che conoscono le mie rivelazioni io ho pensato che invece è il momento giusto perché ogni giorno sta montando un qualcosa che non avremmo più tempo nemmeno per chi volesse utilizzare queste queste informazioni per sé quindi dobbiamo cominciare a scaricare tutto il possibile immaginabile perché il computer come internet saranno gestiti in modo evidentemente diverso differente da quello per cui oggi è possibile accedere e informarsi quindi io ho ritenuto opportuno accelerare i tempi ti dico quindi subito il cristianesimo in realtà il nuovo testamento in realtà chi lo definisce un libro di favole sbaglia io l'ho sempre ritenuto un libro importantissimo 28 libri importantissimi un testo unico chiamato nuovo testamento ma utilissimo perché perché in realtà lo dico qui ebbene assumo tutte le responsabilità il cristianesimo del testo del nuovo testamento è un codice biologico dell'uomo parla dell'uomo nella sua anatomia nella sua praticamente funzione biologica ma parla anche di fisiologia di biochimica e di psicologia quindi stiamo parlando di quelle che oggi noi classificheremo come le neuroscienze e allora io ti dico Morris per completare un po' il concetto se metaforicamente all'interno di un testo che ha duemila anni comunque quasi duemila anni vi sono scritte questo tipo di informazioni che oggi con la scienza possiamo io simbolicamente l'ho estrapolate e le ho accostate alla scienza anche perché come ti ho detto prima e lo ricordo a chi si è messo adesso in in visione della live faccio parte di un'istituzione che comunque ci ha sempre tramandato informazioni codificate o comunque tenute segrete che ce le siamo tenute tanti secoli ecco anche noi quindi io sono stato diciamo sono uno dei pochi che è riuscito a metterlo anche da un punto di vista visivo al mondo se non altri in modo magari come posso dire filosofico altri l'hanno fatto dal punto di vista alchemico per carità io volevo quello realistico io voglio uscire fuori con scusa ti interrompo ma perché hai deciso di divulgare 2023 tu lo sai il sangue verrà versato tutto rosso che cos'è quella cosa che ti ha detto voglio divulgare queste informazioni adesso c'è un motivo dietro in realtà nessuno ti dice niente come esoterista come simbolista come nasco come nasco insomma iniziato non un grande iniziato ma mi ritengo un iniziato e quindi nella mia carriera anche che ho fatto nell'istituzione nella massoneria nella libera muratoria in realtà non nella massoneria politica che non mi interessa ecco ho voluto regalare al mondo una cosa importante forse una un risveglio importante cioè il fatto stesso che noi non abbiamo in realtà bisogno delle religioni morris abbiamo tanto di questo sono d'accordo con te al 100% lo sai però ogni tanto poi invochi sempre qualcuno e riporti sempre all'importanza sì lo so perché diciamo così il mio dio è buono il mio dio mi aiuta tanto quello che chiedo gli mi dà mettiamola così poi non ha niente a che fare con la regione ci sono dei passaggi legati biblici nella bibbia soprattutto ecco perché io cito alcuni passaggi però io non collego il mio dio con la chiesa che non c'entra niente tu fai un redaggio no tu fai un redaggio come ce l'hanno tutti che è cristiano e noi non possiamo voi non potete fare a meno di citare sempre e qualsiasi cosa che comunque sia riporti al contesto io quello che vi sto facendo capire oggi e quindi vi ho assolutamente detto che io lo ripeto posso decodificare tutti i testi presenti in giro nel mondo vedi che non sto dicendo una cazzata sto dicendo che può sembrare una cazzata io con la mia chiave di lettura esoterica ormai completata magari mi rimane qualcosa posso assolutamente decodificare il linguaggio nascosto negli antichi testi non lo faccio nella lingua sei dentro dentro il matrix delle religioni no è stata la passione della mia vita mi sono iniziato anche per questo non ho mai accettato se ti rifaccio la domanda perché non mi hai risposto a volte non rispondi direttamente alle mie domande io ti ho detto prima che cos'è che ti ha spinto il 2023 a divulgare questo sta per accadere un qualcosa vuoi svegliare le persone perché perché uno divulga un qualcosa perché ha un qualcosa a dire perché c'è un significato un po' risposto risposto prima anticipandoti i tempi sono più esplicito i tempi sono maturi i tempi sono maturi spiegami cosa sono maturi i tempi spiegami sta accadendo per voi sta accadendo un qualcosa che un po' vi sta sfuggendo di mano praticamente qui sta accadendo sotto gli occhi di tutti e nel 2023 lo stai sentendo proprio lo stai vedendo sentendo con mano che coloro che erano in buona fede o in cattiva fede comunque religiosi di un certo cristianesimo in realtà si sta verificando esattamente l'opposto cioè abbiamo un'esaltazione della figura contraria a quella del cristianesimo ma pari alla stessa potenza della religione del cristianesimo quindi se io ti dico che questa è una metafora il cristianesimo evidentemente il satanismo è una metafora opposta alla metafora ma quell'altra metafora è più rischiosa se il cristianesimo è passato dalle inquisizioni ammazzando più di sei miliardi di persone e lo sto dicendo qui in diretta a te bisognerebbe vedere tutti nei secoli in cui l'inquisizione è stata prodotta si sono superati i sei miliardi di morti dovuti alla motivazione della religione non voglio pensare che cosa ci aspettiamo se si mette in moto il suo antagonista cioè satana io la guardo dal punto di vista dello spettatore laico e massone che dico per me una è metafora l'altra pure ma qui stiamo per avere uno scontro tra due potenze egoiche un po' fatte in un modo un po' a golem un po' a entità che veramente ci sfuggirà di mano ed ecco ti ringrazio per aver postato questa questa foto finalmente possiamo rivelare al mondo cos'è il giardino dell'Ede cos'è il paradiso terrestre ce lo abbiamo tutti dentro di noi leggiamolo e il claustrum le parole greche sono precise claustro vuol dire recinzione è il luogo della nostra coscienza oggi si sta studiando molto bene per gli studiosi per coloro che vogliono approfondire sapranno che il claustro che è una specie di reticolato di neuroni che circonda la nostra testa ed ecco perché mi devi mandare l'altra immagine in prima mondiale firmata da me eccola qua non è nient'altro che quella corona di spine del Cristo il claustro è la chiave per avere l'uscita e l'entrata della vita e della morte cioè della nostra coscienza il claustro il tanto nominato claustro questa quindi la corona di spine del Cristo è una struttura di neuroni ma è anche la struttura della nostra coscienza gli scienziati oggi ci dicono che questo tipo di filamento che circonda la nostra testa cioè il punto centrale che sarebbe il centro dove abbiamo visto prima rimettilo Adamo ed Eva rinchiusi nel paradiso timorosi ho scelto anche un'immagine abbastanza esplicativa ecco erano chiusi in questo paradiso ma in realtà come dicevano anche altre altre letterature o dice qualcuno noi non siamo mai usciti dal dal giardino dell'Eden perché perché ci usciamo e ci rientriamo mandami l'ultima foto che ti ho mandato sì ci sono dei file pesanti che quindi te devi questa vediamo no questa è quella della corona di spine no le altre due sono tantissime le sta caricando perché la riportiamo alla coscienza cosmica perché è proprio avere un un collegamento tra la nostra mente tra la nostra coscienza e tutto quello che dal cosmo arriva ed ecco che è rinchiusa proprio in quella corona che Cristo portava come re ecco dei giudei e come si spezza la corona di spine a questo punto perché sicuramente mi sembra di capire che se spezziamo questa corona abbiamo accesso a molte la corona è il procedimento che ti dirò che ti racconterò nella prossima foto nella prossima immagine perfetto se riusciamo a caricarle sarebbe fantastico perfetto è affascinante questi passaggi ti dico la verità è affascinante ti dico la verità è affascinante no no il serpente cosa simboleggia in questo caso oggi noi dovevamo ah bravissimo se tu vuoi sapere cosa simboleggia il serpente mi devi mandare l'altra immagine eh infatti stiamo aspettando guarda guarda prendiamoci un po' di tempo faremo una diretta no non ho fretta non ho fretta perché sono la parte più bella adesso la parte più bella perché ti farò capire per la prima volta a te a tutti i nostri amici fratelli e sorelle che saluto e abbraccio che poi magari non mi vedranno più perché mi ammazzano vi farò vedere la causa la causa sì sì la cosa affascinante è che le persone guarda te lo dico io ho fatto tantissime live di sotto le live poi vanno a scendere di quanto a dire no le persone sono attaccate allo schermo quindi stiamo dando delle informazioni che sono uniche per quello io sono preoccupato quando ti ho detto perché stai divulgando queste informazioni la mia paura come tu mi hai insegnato 2023 sangue verrà versato e cose varie abbiamo aspettato e l'ho spiegato c'è un'escalation dell'antagonismo cristico pertanto io non so cosa ci aspettiamo dall'antagonista satana perché se per adesso comunque abbiamo vissuto 70 anni di cristianesimo per così dire quieto avere adesso un antagonista che gli prende il posto vorrà dire che cominceranno di nuovo le inquisizioni ma sotto il titolo di satana però questa volta che è una menzogna è una menzogna della mente umana una perversione o della mente umana pari alla metafora del cristo ecco c'ho il cartello a non gridare ecco guardo il cartello e non voglio urlare il cristianesimo è stata una metafora che nascondeva delle informazioni potentissime di biochimica di fisiologia di anatomia e io le rivelo e ve le sto rivelando questo è questa è antica sapienza rosacrociana nascosta non quella che i rosacroci portano in giro oggi come la pappardella però Stefano perdona la domanda perdona la domanda io posso essere da quello con te con la regione inventata tutto quello che vuoi ma un dio io sono più che certo che esiste quindi non mi dare termini che non ho detto ho detto che è metafora per capirti metafora sì però dico però io dico tu credi in un dio un dio esiste certo che credo in un dio ma te lo te lo dice quello che ti sto mostrando dio è dentro di te è fuori di te ha ragione Tommaso non c'è bisogno che ci sia una religione di mezzo che ti dice che tu devi far bravo io scendo sono d'accordo con te per me non esistono le regioni sono per indottrina alla massa veri moris devi innanzitutto comprendere che tu sei una divinità aveva ragione Giordano Bruno gli sto rispondendo dopo 600 anni 500 anni Giordano Bruno aveva ragione sta aspettando quello che sto dicendo io noi se se riusciamo ad estrapolare la metafora e accompagnarlo con la scienza di oggi noi avvaloriamo la tesi che ha ucciso Giordano Bruno siamo divini tutti dentro di noi una volta fatto questo non puoi non escludere il fatto che l'eternità la vita stessa è divina ma tu sei una divinità che la vive dal punto di vista della materia e magari il ritorno all'uno esattamente sarà il ritorno di una coscienza divina che ha creato questo contesto quindi io per forza devo credere a un dio costruttore grande architetto dell'universo ma io adesso sto vedendo se io rappresento la divinità in terra se noi tutti siamo divini in terra come diceva Giordano Bruno la scienza oggi ci può dire assolutamente sì perché io metto insieme la scienza la trasporto nella metafora ed estrapolo la sua vera identità questa è la rivelazione amina poca visse in rivelazione mi dicono che le puoi mostrare a schermo Stefano ce le hai nel tuo computer dentro il tuo streamyard puoi mostrare tu le ultime due foto no ce le ho non nello stream le apri con il tuo pc e condividile sullo schermo condividile aspetta che col pdf ok te ne metto quindi dice che non le carica quindi ha fatto in modo che tu possa postarle ok ma a volte mi chiedo questi illuminati Giordano Bruno inviati da chi sul pianeta Terra da Dio no non voglio fare il presuntuoso come tu sai che io non lo sono però sono sì il presuntuoso a me piacciono queste cose perché io sono troppo curioso io dico io li chiamo star sì da volte persone che condividono la scienza alle scimmie terrestri no non insultare le scimmie sono creature divine quindi ma ad un passo meno del nostro ma io mi sto vedendo un documentario su Netflix che te lo te lo te lo così te lo te lo indico te lo indici vabbè come chiami tu illici no 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 sulle scimmie sugli scimpanzee senti in alcuni passaggi si si commuove adesso non voglio essere proprio esagerato sono più intelligenti degli esseri umani si si purtroppo no hanno una una visione di verba ma è talmente tenera la cosa che tu li vedi proprio dal punto di vista divino e questo non c'è ascoltami Stefano da Londra mi dicono se riesci a condividere le foto devi condividere come hai fatto a inizio live quei due file che tu possiedi si si ok proviamo adesso a caricarle proviamo un attimo che mi prendo quella lì perché la regia di Londra deve staccare mi dice che praticamente per gestire tutto questo secondo ci sono stati i trolls che noi salutiamo i codici personaggi demoniaci che non esistono no io dico che è devianza umana poi alieni e cose un'altra puntata la facciamo da soli certo certo ahia l'altro c'è con il mondo lì una base segreta qui finiamo magari questa è effettivamente una cosa e allora sì facciamo questa la prima questa è un'altra mondiale e no non me lo fa fare non te lo fa fare no mi dice la solita schermata rosa in qualità di ospite non puoi mi dice guarda ce l'ha lei nel ultimo ce l'ha tutte e tre le ultime tre se riesce siamo felici tutti no il problema è che dice non riusciva a caricare dice che non riusciva a caricare perché fai il pesantissimo non so per il motivo non me le carica dice sì allora peccato va bene possiamo commentarle dai possiamo commentarle magari non lo so se vuoi fare questa però qui sai c'è poco da commentare perché se non vedi l'immagine come hai visto fino adesso cioè se io potevo commentarti il Ganaden io riesco a vedere cose che voi esseri umani non possono vedere quindi se le commenti a me io riesco a vedere l'immagine eh adesso sì adesso tanti saranno più però sappiate che io non l'ho mai fatta vedere in pubblico cioè così a livello è un regalo che faccio a te evidentemente cosa rischi per avere Stefano cosa rischi per avere condiviso tu lo sai che ci sono magari alcuni consortari che un po' sarebbero sempre accorti su quello che hai condiviso oggi io rischio la vita ma se muoio quindi secondo me se l'hai condiviso perché tu sai che sta per accadere qualcosa di grande non fare le deduzioni che fai di notte beh sono logico in PNL sai rischio del sacro mondiale allora ascoltami bene Morris ascoltatemi bene tutti negli anni settanta si è voluto sdoganare il controllo della mente che è l'unico esercizio no questa è l'ultima no mi devi mettere l'altra prima chiudi l'ultima ok questa chiudiamo in bellezza e ci facciamo ammazzare tutte e due si metti l'altra prima non mi ha paura il mio Dio mi difende è stato sdoganato un esperimento esattamente come quello che stanno facendo oggi ma che trattava la LSD perché volevano sapere e non faccio il nome di chi lo voleva sapere gli effetti sull'uomo e quali uomini avrebbero potuto gestire questo tipo di esperimento quelli che sono quelli che hanno resistito a questi esperimenti sono stati portati dove erano stati portati sono stati reclusi e sono stati usati come cavie la potenza di alcuni per così dire enti enti chiamiamoli così così deviamo è quello di avere questa potenza di conoscenza che è la potenza di conoscenza che cambierà il mondo ti ho mandato anche un'immagine ieri della di farla vedere il cellulare se tu puoi mostra il cellulare di fronte alla telecamera per quella immagine dice che non riesci a caricarla proprio cellulare prendi il cellulare attacca si no se hai il cellulare fai vedere la foto che hai mandato la metti in fronte della telecamera così si visualizza quello che tu dici che il diavoletto quando vuole non far vedere certe cose non lo conosciamo no vi dà esattamente vediamo vediamo vi dà esattamente l'idea di che cosa vuol dire in realtà cioè da dove tutto sto contesto viene fuori vediamo se riusciamo così e chi lo sapeva ecco qua vediamo se te la riesco a mandare eccola qua così perfetto allora tiena ferma allora praticamente il cervello ha due cervelli ah di qui uno rettile rettile no è la forma del tuo cervello che sembra un rettile tutto raglomitolato e lo sapevano gli egizi perché gli egizi tenevano sulla testa vi ricordate l'ureo l'ureo e le righe ma dove sta ecco ecco incredibile sì sì perché c'è il green screen dietro c'è lo schermo verde ecco il serpente del vostro paradiso ecco il vostro tentatore mandala a me questa foto su whatsapp vedo di farla mostrarla io magari si vede ok sì salutiamo anche la deagle che ci sta osservando un sacco di fans se la dico che ci vogliono bene allora te le mando tutte e due queste due vediamo sì sì vedi di aprirle tu no almeno l'altra è scomparsa però prima c'era prima c'era è bellissima sì è scomparsa è incredibile non la vedo neanche io va bene è moris scusami moris in whatsapp la vuoi? sì preferisco più facile allora ti ho mandato questa qui non guarda il Mossad no ma non ti preoccupare per il Mossad ho amici nel Mossad quindi mi vogliono bene però mi seguono sono curiosi perché non te lo dico quelli di qua che non mi vogliono bene ecco il nostro cervello nel nei suoi si chiamano circombulazioni cerebrali ecco ricorda un serpente raggomitolato che scende attraverso il midollo quello centrale ok che è la la discesa poi del bastone di Aronne che è il bastone di Mosè ma gli egizi come vedi nelle loro strisce nelle loro ureo conoscevano è una questione egizia che è anche rosa crociana ma che cosa è simbolo il serpente il serpente un astuto evidentemente simbolo del male per il cristianesimo genesi 3 1 5 anche per evidentemente per l'antico testamento ma poi è simbolo di immortalità simbolo di tentazione simbolo di desiderio simbolo di impulso simbolo di istinto è la perversione e allora che cosa sta a significare tutto questo che noi il nostro cervello cioè la nostra ragione la nostra mente il nostro essere come posso dire intelligenti confronti ad animali che hanno solo l'istinto ecco questa nostra intelligenza attraverso quel simbolo che è un serpente che sta dentro di noi dentro tutti voi come stava Cristo dentro di voi che te lo farò vedere adesso se te lo mando mandami l'ultima che è scomparsa l'altra dobbiamo mettere alla fine di tutto così la facciamo vedere mi sto mandando così ce l'abbiamo vediamo dove sta Cristo voglio farti vedere dove sta Cristo per favore da dove estrapolano il simbolo visivo del del Cristo è qualcosa di il Vaticano non sarà contento di questa live che abbiamo fatto il Vaticano non è contento e mi chiesero di dare le scuse io volevo allora ragazzi volevo a queste 350 persone live vi consiglio di scaricare questa live ok Mari di condividerla potete anche ricaricarla YouTube di autorizzazione o comunque salvarla perché la possibilità che venga bannata è elevata eccolo qua adesso faccio vedere te l'ho detto prima eccolo qua Cristo guardalo guardalo lì dove nel cervelletto ha una conformazione tipica di quella iconografia cioè l'eroe il petto dell'eroe il petto dell'uomo ma anche nel suo cervelletto è una sezione del cervelletto evidentemente che ce lo fa vedere tutto è riportata nell'iconografia proprio nel perizoma del Cristo che si tende proprio come se fosse questa rappresentazione avete Dio dentro di voi non è una favola è lì è davvero dentro di voi anche stanotte domani ieri sempre è lì te lo mando te lo mando in jpeg guarda sì però io dico una domanda che mi viene adesso a farti Dio è dentro di noi non hanno mai detto favole eccolo qua la sovrapposizione nel senso che molti si diranno mio Dio ma se Dio è dentro di noi io sono una divinità posso fare delle cose però mi sento un essere umano normale allora Morris guardami in faccia togli sta foto sì sì la potenza del nostro cervello non la conoscono neanche quelli uffici particolari noi possiamo creare noi siamo creatori qui noi possiamo cambiare la nostra forza io non so come spiegarlo perché lo faccio in conferenza aiutato anche da alcuni contesti noi siamo una potenza divina e oltretutto abbiamo una parte del nostro corpo che è veramente lo spirito divino ma materialmente è il collegamento con tutti che si chiama proprio pineale ghiandolo pineale che sta nell'epitalamo la prima di questa cosa qua guarda voglio dire questa testimonianza io da quando sono in Costa Rica per gestire questo mega progetto ARCA la chiamata 70 e io ho chiesto complimenti complimenti grazie ho chiesto la conoscenza e mi è stata data cioè mi hanno dato delle conoscenze che io non avevo gestire un progetto così ambizioso credimi va oltre la mia conoscenza e su questo lì ho capito quello che dici divinità che ti hanno dato quella conoscenza cioè la voi te la diamo te la diamo se ti diamo la conoscenza se la utilizziamo a fin di bene l'esercizio che fanno i poteri forti almeno da 500 anni 600 anni a questa parte è quella di non fare elevare nella conoscenza prima e nella spiritualità l'uomo perché l'uomo oggi con la scienza ha assolutamente tutto in regola per definirsi una divinità queste sono le ultime parole che vi dico perché io non morirò per raffreddore sono sicuro però vi sto dicendo che è veramente voi dentro siete divini cosa riesce a fare la pineale che è la ghiandola che se tu chiedi io ho i medici anche dentro la nostra massoneria quando mi sentono parlare di questo dicono Stefano ma i nostri i nostri libri non parlano di questo e io gli dico non parleranno mai di questo perché questo è la potenza divina nel mondo questa potenza divina è sempre stata nascosta è stata celata è stata repressa è stata combattuta ma è la nostra potenzialità la nostra come si sbloccata Stefano come se io gli diamo la son fatta come sbloccarla però volevo sentire il tuo punto di vista poi ti posso dire il mio allora innanzitutto sfatiamo il mito e poi metterai l'ultima perché è la resurrezione io ti ho messo la rosa croce ti ho fatto un'immagine devi mandarla perché me l'hai mandata ok ho tradotto in jpeg sì perfetto ce l'ho ce l'ho ce l'ho perfetto la mandiamo dopo fammi terminare questo concetto così poi chiudiamo mi piace non aver fatto metà puntata però voglio dirti che le attivazioni della pineale le conoscono anche dal punto di vista clinico dal punto di vista medico scientifico non te le dicono perché se tu attivi la pineale loro hanno perduto hanno perso tutti tu veramente non hai bisogno di nulla perché tu sai cosa è buono e cosa è cattivo tu aprirai le porte del paradiso quelle buone perché sarai in contatto con la divinità ogni volta che lo vorrai qual è la predisposizione esatta per avere una pineale perfetta che funzioni a dovere è quella di curare il proprio corpo secondo gli standard della legge della natura anche il comportamento umano anche le emozioni umane noi lo facciamo nella cabala pratica cercare di portare l'uomo ad avere un equilibrio solo questa caratteristica riuscirà a far passare l'uomo da un livello animico ad un livello spirituale per adesso la coscienza è lì è nella corona di spine è nel recinto è ancora lì nel genede però quella coscienza oggi gli scienziati ci dicono che è la coscienza relativa a ciò che noi nel vivo nella coscienza viva evidentemente e forse anche il subconscio attraverso le altre funzioni del nostro corpo però quella della pineale è eccezionale perché non le ancora oggi la scienza non la lega a nessun fattore corporeo se non quello attento la potenza della pineale sta nel manda l'immagine sì ed ecco la rosa croce adesso sono morto davvero girala per intero ok questa è la rosa croce sì ecco perfetto questa è la rosa croce per intanto la studierai stanotte questa si chiama la rosa croce perché vedete la rosa in giù e la croce in su dove abbiamo posizionato il Cristo adesso con tutta la sua risalita dei 33 delle 33 vertebre e quant'altro la puoi togliere perché come avviene questa morte e resurrezione nell'uomo avviene ogni 20 28 giorni per ognuno di noi sia uomini che donne attraverso la secrezione della pineale che è segreta un sale che si chiama pinealina questa pinealina quando ci sono le caratteristiche esatte per avere questa funzione entra nel crisma non è il crisma non è il crisma la soluzione Jim Carrey sbaglia non è il crisma ma è la pineale secretata il secret il segreto è quello è la secrezione della pineale che va trasportata attraverso il crisma che non è il Cristo non vuol dire Cristo crisma ma vuol dire cristi madre è la madre di Cristo il crisma cioè il condotto per cui viene fuori Dio quando questo accade cioè e lo vedi nella tua immagine lo faremo vedere se lo vorrai poi montare è una discesa che fa questo sale attraverso il crisma dopo aver superato il claustro quindi dopo essere uscita dall'Eden scende nella colonna vertebrale attraverso il fluido cerebrale e va a potenziare per così dire le ghiandole che poi servono alla riproduzione all'albero della vita alla placenta che nel caso di ciclo mestruale la placenta sappiamo tutti fa una sorta di implosione creando poi il ciclo mestruale nell'uomo la pinealina che è scesa attraverso il claustro produce ormoni all'inverosimile abbiamo una sorta di ciclo lunare anche noi perché durante quei giorni esattamente gli ormoni nell'uomo aumentano gli ormoni sessuali evidentemente si raggruppano tutti nei testicoli esattamente nella funzione che fa con quella femminile creando anche delle sfunzioni per così dire comportamentali emozionali nell'uomo quindi irritabilità e quant'altro il bello è che quando mi dicono tutti Stefano nelle conferenze Stefano come si fa a gestire a determinare questi eventi divini dentro di noi perché sono divini perché danno la vita Morris e chi ha dato la vita in principio Dio ma noi la possiamo ripetere e la sappiamo commentare la sappiamo curare noi siamo divini mettetevelo in testa lasciate stare i governanti lasciate stare i politici che sono gentaglia come gentaglia chi non mi fate parlare perché lo sapete come la penso ormai però noi siamo divini tutti perché noi ricreiamo le condizioni per cui la vita viene sul mondo e dobbiamo essere garanti di questo i Rosa Croce fanno questo e garantiscono questa scienza perché doveva essere rivelata nei momenti in cui rivelata con la scienza che la determinava in un modo reale non poteva essere rivelata prima quando tu non potevi dimostrare questo questo la scienza lo dimostra e a tutti quelli che scriveranno sotto qui che sono menzogne sono loro sono sempre loro non sono menzogne l'assenza andate negli articoli scientifici a vedere quali sono i comportamenti di queste ghiandole o di questi neuroni di questi neuroni io lo spiego anche nell'anti-aging questa cosa qua che bisogna avere equilibrio nel corpo cioè quindi per sbloccare la pineale noi dovremmo avere uno stile di vita sano trattare bene il corpo trattare bene l'anima ma io penso che manca l'altro ingrediente amare gli esseri umani come fratelli cioè portare l'amore questa te l'ha insegnato no dico l'odio cioè nel momento in cui l'odio però io dico l'età io dico ama il tuo prossimo come te stesso come me stesso questa è l'interpretazione divina che mi ha dato il mio Dio tu puoi sconfiggere il male puoi sconfiggere l'elite puoi sconfiggere chi vuoi soltanto portando vera conoscenza all'uomo che difenderà se stesso perché esso divino perché ogni volta che tu vedi morire qualcuno ne basta morire uno nel mondo io io ammescono le lacrime quando vedo un bambino morire quando vedo un anziano morire perché è la divinità che sta morendo è Dio che muore quel Dio non quel Dio teologico inutile e magari anche malvagio e che ti deve fare le cose no il Dio della vita il Dio dell'umanità la nostra coscienza viva altrimenti con la coscienza spirituale che invece noi insegniamo accendere attivare quindi attivarsi col cosmo attraverso le meditazioni attraverso la meditazione il mantra ma perdona vi è anche la logica perdonami la black rock come tu saprai controlla anche la linea alimentare ok quindi il fatto che chi sta là sopra gli illuminati cattivi chiamiamoli così luciferini il fatto che ci facciano bere coca cola farina bianca tutta quella spazzatura per ammalarci sotto controllo l'abineale tiene sotto controllo l'abineale quindi il momento in cui hai vuoi la vera illuminazione devi rispettare quindi quello che mangi quello che introduci dentro il tuo corpo deve essere sano un prodotto di Dio tutto ciò con un prodotto di Dio perfetto ma adesso è ancora più grave perché mettendo mani a questioni ancora più avanzate scientificamente loro disinibiscono accendono e spengono ciò che vogliono sì sì ci siamo capiti non entriamo in particolare per i cittadini nel momento in cui tu farai quello che io sto facendo da un'altra parte ci sarà uno che mi spegne non mi cancella da YouTube mi spegne proprio fisicamente senza ammazzarmi mi spegne l'ho spiegato questo è stato un ed è stato degli anni Ottanta un esperimento fatto su una donna che i servizi trovarono per caso nel mondo immagina dove la sola riusciva a staccare la coscienza e a riattivarla questa donna purtroppo è rimasta nei laboratori perché l'hanno sfogliata tutta però sono usciti desecretati questi documenti ci sono morte persone per quello che ti sto dicendo io eh sì sì sono d'accordo infatti ripeto a me piace dare esempi pratici quindi per chi vuole bloccare la pineale deve cambiare stile di vita deve rispettare la propria vita e deve meditare perché la deve attivare in modo cosmico cioè la deve attivare veramente guardando Dio faccia a faccia e questo luogo l'ho chiamato Penuel stiamo parlando di un riferimento assolutamente biblico Stefano due ore due ore e ventuno di live le persone attaccate allo schermo sono anche aumentate mi ha fatto veramente piacere io direi di chiuderla qua e di organizzare un altro evento fino a quando ce lo permetteranno no no fino a quando ce lo permetteranno tu sai quanto me è quello che accadrà e sai che dare certe informazioni sarà sempre più complicato ricordatevi anche mettetevi anche in pace una cosa allora innanzitutto chiudiamo con la pineale è la settima ghiandola conta i sette per favore è la settima ghiandola del corpo umano che si forma alla settima settimana è il 777 che tutti cercano e non hanno mai trovato io ho trovato il 777 ho trovato il 666 ho trovato l'888 e quant'altro io posso rivelare e svelare tutti gli antichi testi tutti perché ho le chiavi di lettura che mi sono state tramandate nel tempo e che io sono riuscito a decodificare punto quando sentirete queste cose in giro è perché le ho dette io mi sto assumendo io chiedo forse non hai capito mi sto assumendo no no infatti Stefano io chiedo alla gentilezza di tutti quanti scaricate questa live caricatela sul vostro canale youtube condividetela perché vi è il rischio che venga buttata giù e scompaglia per sempre quindi io vi invito scaricate questa live postatela su facebook caricatela sul vostro canale youtube anche se avete un canale con un solo iscritto così creiamo database e la condividete questa conoscenza non ve la dà nessuno non ve la dà nessuno per creare questi eventi con Stefano sa quanto lavoro c'è dimmi Stefano io ti voglio bene ti ho sempre curato come un amico come un fratello tu lo sai ti ho voluto regalare questa mia esposizione pubblica che non ho mai fatto le mie conferenze sono state fatte sempre a porte chiuse e te le possono confermare quelli che stanno vedendo che sono stati nel 2015 con me dove la scorta i carabinieri mi scortarono fino all'autostrada perché c'era qualcuno che aveva fatto una denuncia ai carabinieri quindi io ti sto dicendo che io rischio dall'epoca poi mi sono preso il tempo per chiudere tutti gli studi e per essere qui oggi a regalarti questa prima mondiale perché l'abbiamo scritto e quindi dobbiamo essere dare quello che scriviamo e dobbiamo promettere quello che cioè dobbiamo dare quello che abbiamo promettuto Stefano proprio perché conosco le regole di YouTube di chi c'è dietro a YouTube i servizi e cose varie chiamali buoni e cattivi di scaricare questa live scaricatela su Rambo sulla vostra pagina Facebook su YouTube create conservatela anche nel vostro computer in maniera tale che se vi buttano giù la pagina lo ricaricate perché queste informazioni non le trovate sui libri e non le trovate sicuramente nei miei stream le mie conferenze sono assolutamente più dettagliate più con riporti anche scientifici medici perché veniamo anche diciamo così accostati da persone di scienza io non sono uno che parla dico quello che riesco a capire io sono un simbolista ed estrapolo il simbolo e vi faccio vedere come possono seguirti Stefano le persone così magari facciamo anche un po' la pubblicità se una persona vuole seguire le tue conferenze mi seguono già quelli che sono io non ho bisogno di pubblico non faccio cose per denaro non mi interessa i corsi si perché spendo le persone nuove però le persone nuove quindi se una persona voleva scusami i corsi me li faccio pagare di cabalà perché insegno una tradizione antichissima millenaria e pretendo che ci sia un compenso sulla grandezza della possibilità che gli do anche perché non ti viene dato da nessuna parte e tu hai visto i risultati questa è una minima parte pensa che questa che ti sto svelando che è fatto di un capitoli e capitoli ma è la parte iniziale di ciò che poi veramente tu sarai attraverso le conoscenze della cabalà ermetica e pratica con delle pratiche che sono assolutamente reali e ti dico anche una cosa in più che può sfuggire a qualcuno ma guardate che il papa che c'è oggi è laureato in biochimica io non vi sto dicendo a volte guarda Stefano mi dicono perché dovrei abbonarmi su numerosei.org per questo motivo per questo tipo di trasmissione ma guarda che il genio allora ti dico una massima il genio è colui che mette insieme le cose non colui che le crea capisci cosa voglio dire io ho messo insieme la mia vita perché è questa la mia funzione qui io vi sto rivelando e mi metto a disposizione di rivelarvi tutto ciò che conosco io sono a disposizione poi vivo la vita come la vivete voi sotto lo stesso cielo ci può capitare tutto abbiamo tutti bisogno di fare cose ma per quanto riguarda la conoscenza è il compito che ho qui in questa vita in questa esistenza è quello di rivelarvi tutto forse perché un po' di palle ce l'ho e magari il Cosmo ha scelto me per il grande architetto mi ha detto vai tu perché altrimenti qualcuno non ci va e magari c'è andato e è anche morto è tutta metafora non avete bisogno di arricchire gente che poi sapete ormai quello che fanno poi là dentro non vi sto dicendo di non essere fedeli anche al vostro Cristo però oggi ve l'ho fatto vedere dove ve l'ho fatto vedere la metafora perché se voi leggete Tommaso troverete il vero Yahshua quello che tutti vogliamo quello che io professo cioè quello che ti insegna quello che ti sto dicendo era lui il messaggio Yahshua viene ucciso perché se se è persona fisica perché rivelava questo in quel tempo ecco perché torna ecco il messia che torna perché questo è il momento di tornare con le stesse informazioni con la stessa conoscenza che possiamo definire Rosa Cruciana la conoscenza della vita e della morte oltre la morte attraverso le nostre ghiandole il nostro corpo non attraverso ecco la resurrezione col corpo cosa vuol dire Dio è risorto col corpo ed ecco la soluzione che vi sto dando non è quella figurata di quell'uomo che sale col corpo al cielo Dio ha detto lui stesso non è di questo mondo ed ecco quale mondo è è quello dentro di noi e allora noi risuscitiamo col corpo ma perché attraverso l'utilizzo della nostra ghiandola pineale incontriamo veramente lo spirito che è in noi la Shekinah vive nella pineale e agli ebrei dico agli ebrei qui che io sono lo sapete in famiglia ce li ho avuti quindi ecco anche un po' di conoscenza che ho su queste diciamo argomenti e perché mi viene da dentro la pineale è lo yod la pineale è il dito di Dio nell'ebraismo è lo yod è quella gocciolina che è l'inizio di tutte le parole divine è la pineale dal punto di vista anatomico poi se la vogliamo vedere dal punto di vista letterale simbolico ermetico mistico ci stiamo qui in altri duemila anni a parlare sempre delle stesse cose ma perché non diciamo la verità perché non diciamo che noi abbiamo queste potenzialità oggi qui adesso qui adesso sarà tornato questo punto l'unto perché perché quel sale sale salvatore salvazione è la parola la stessa radice della parola shua vuol dire salvezza yashua vuol dire Dio salva Yahweh è la salvezza Yahweh è il corpo dell'uomo la potenza scesa nell'uomo e shua è la sua salvezza il suo sale salvatore vedi che tutto torna io posso dimostrartelo questo con la scienza non con la fantascienza con la metafora io non mi faccio pagare le chiese le chiese sono importantissime dal punto di vista architettonico dice il mio gran maestro e quella ce la dobbiamo tenere guai a toccare una pietra della chiesa ma la chiesa che voleva distruggere Cristo dicendo cadrà e non rimarrà pietra su pietra è quella che hanno fatto loro è quella sinagoga di satana annunciata nell'antico testamento e nel nuovo testamento poi di somma quindi stiamo parlando di un qualcosa di ingannevole di contro Yeshua di contro salvezza noi siamo salvi tutti perché tutti abbiamo le stesse caratteristiche noi siamo tutti divini grande Giordano Bruno e io adesso se mi sta ascoltando da qualche parte ho avuto il coraggio di dirlo e di dimostrarlo che tutti siamo divini ce l'abbiamo dentro il minore ragazzi riprendiamoci quello che siamo abbracciamoci l'amore amplifica la pineale il sorriso è indolfina per la pineale ragazzi è scienza è scienza loro ti vogliono grigio che hai paura la paura è l'ipotalamo il talamo è il scusami l'ipotalamo è l'ipocampo però Stefano scusa un attimo tu ci siamo tutti divini io potrei anche essere d'accordo con te però perché alcuni esseri umani sono demoniaci sono cattivi ma perché ti sto dicendo perché dentro di noi dentro di noi sussistono le due entità nella stessa menzogna però Morris nella stessa menzogna l'illuminato qualcuno che sta vicino alla luce è una persona che distingue non devi dividere i lobby devi unificarli i lobby ecco perché dicono il bene e il male il bianco e il nero per noi massoneria è servito per poi chiarire che devi unificare in massoneria si dice che il maestro cammina in mezzo al pavimento cosa vuol dire in mezzo al pavimento tra il nero e il bianco certamente nella vita normale uno mette il piede nero mette il piede sul bianco ma la sua scelta per elevarsi deve camminare deve seguire il percorso centrale la via regale si chiama in cabala mistica è la via centrale è la spada è il bastone è la spada del re e del sovrano tu sei re re dei giudei e re dei re sì tu lo hai detto perché nella corona nella coscienza che ti ho fatto vedere oggi se tu hai coscienza di te sei sovrano di te stesso ecco il senso di quella parola sì tu lo hai detto perché non poteva negare di avere coscienza di sé quel Cristo figurato solo che a te è arrivata la metafora io ti sto spiegando cosa vuol dire io ti spiego tutti i passi della Bibbia tutti in questo modo tutto chiaro Stefano dai mi ha fatto un immenso piacere questa la io penso che sia una tra le le più belle che abbiamo mai realizzato abbiamo condiviso delle informazioni uniche no uniche no uniche lo so che alcuni tu immagini se avessi no alcuni rimarranno sconvolti da certe informazioni però il numero 6.org nasce come per quello far conoscere queste realtà noi siamo gli unici in Italia che facciamo conoscere queste cose non c'è una trasmissione che fa quello che facciamo noi quindi è fantastico quindi Morisanko ti darà a dare spazio a Stefano proprio per questo motivo che Dio il mio Dio il nostro ti benedica e ti protegga dalle anime cattive sei sicuro l'importante è che le persone la gente cominci oggi a dire che c'è una visione differente di se stessi non negate voi stessi davanti alla convenienza davanti ad un affare davanti ad un qualcosa da organizzare per la società cominciate a diventare di nuovo individuali cominciate a puntare su di voi e poi vedrete che gli altri si avvicineranno perché il vostro perché i vostri organi si sono allineati e la vostra energia quando sorridete state facendo comunione quella che loro chiamano comunione la si fa con il sorriso cioè non si può fare la comunione pagando qualcuno che te la fa sono d'accordo sono d'accordo guarda Morris potrei stare ore e ore ma io ti ringrazio no no lo so guarda siamo due ore e trentaquattro di live no ti spiego anche se sono persino aumentate le persone quattrocento uno e che purtroppo arriveranno tante segnalazioni per quello vi invito scaricate questa live vi do l'autorizzazione scaricatela nel vostro canale condividetela caricatela su facebook dove volete perché il rischio che venga poi segnalata buttata giù è del certo io sono la persona che ha preso più strano il rischio per quello quello si bravo però il bello sul numero 6.org la lasciamo aperta quindi i nostri server sono all'estero quindi non la possono buttare giù possiamo assicurarvi una cosa possiamo assicurarvi una cosa chi ci vorrà male che noi non ce ne frega noi siamo venuti siamo già morti quindi io in particolare perfetto non ce ne può fregare di meno io comunque sorriderò davanti sempre se sono capace a farlo te lo dico perché anch'io sono preparato su certi livelli però tolto questo ti dico che queste informazioni esattamente tutto il progetto Kabbalah Yashua è stato diviso per sei parti da me prima di uscire in modo che queste sei parti saranno sempre a disposizione di chi le vorrà tirar fuori quindi non si illudano che uccidendo me uccidono la Kabbalah Yashua perché la conoscenza del Dio Salvatore sarebbe la traduzione l'antica conoscenza del Dio Salvatore perché perché questo è il momento in cui si comincia a parlare di questo io non dico che arriveremo a capirlo tutti ma questo noi siamo i pionieri di questo di nuovo risveglio tutti e chiunque lo fa proprio ieri ho preso anche i complimenti da Kabbalah Italia da Kabbalah Center che mi augura la via della luce perché loro stanno facendo lo stesso lavoro accompagnatevi a queste persone che stanno facendo un grande lavoro di risveglio dell'uomo ma l'uomo deve capire innanzitutto chi è non fare dei corsi immaginando di nuovo il simbolo che non che non che non li proietta niente devono sapere come funziona il simbolo nella mente qual è il processo del neurone solo così diventerai Dio dentro di te arrivederci a tutti un abbraccio carissimo che il nostro Dio ci illumini sempre un abbraccio ringraziamo a tutti mi raccomando scaricate questo video caricatelo dove volete siete autorizzati a farlo bye bye come fanno i figli della luce e alla prossima è la prossima intervista imparalo pure tu imparalo pure tu figlio della luce ok ok un abbraccio a tutti quanti un abbraccio